Questo programma è offerto da... Quindi scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso potenza 183, angolo di Alucento, Torino. Grazie per la visione! 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 Il problema è che sono cose Che sono costi aggiuntivi Che molte persone non c'hanno voglia di fare E quindi alla fine non lo faranno Perché anche nei centri commerciali La roba da mettere il gel Quando entri va benissimo È una roba che secondo me dovrebbe rimanere Faccio un esempio La copp di Casale Monferrato Ce l'aveva già prima ancora della pandemia Ce l'aveva già messi i distributori Nel centro commerciale Ammetto di averli usati pochissimo Prima che cominciasse la pandemia Adesso ovviamente per ovvio motivo Basta che ho il mio quando vado in giro Però è comodo Entrare in un supermercato E darsi poi una bella Pulita alle mani Comunque non parliamo di queste cose Che poi ci dicono che siamo covid caffè E noi dobbiamo parlare di wrestling Parliamo per due ore di covid adesso Un pochettino di covid Ne parleremo ancora più che altro Non la prossima settimana Scusa, tra due settimane Perché c'è il Wrestlemania Con la UFC No, anche il Wrestlemania Direi che a livello di A livello di super spreading Tutto sommato Non penso scherzi Contando anche peraltro La liberatoria che devi firmare Per andare a vederlo Restelmania Che è del tipo Se muori cazzi tuoi Sostanzialmente Diciamo che Diciamo che potremmo poi parlare Anche di quella cosa No, anzi Ma non biasimo la WB Comunque pare sia abbastanza prassi Questa cosa Fa ridere il linguaggio Fa ridere il linguaggio Tutto qui Anche adesso se vai a Come si dice Sì Se vai Se vai comunque in ospedale E così via Ti fanno firmare una liberatoria Dicendo Tu non hai il covid Se contrai il covid qua Non è colpa nostra Sì, sì No, no Ma infatti Mi fa ridere il linguaggio Tutto qui Il linguaggio è divertente Oggettivamente Anche se È un pochettino Un pochettino sconvolgente Però è prassi Cioè comunque Anche ripeto Anche quando torneremo Negli stadi in Italia Anche quando torneremo A vedere i concerti Che comunque Torneranno i concerti Prima o poi Si spera Penso che all'inizio Bene o male Quando tu prendi un biglietto Bene o male Credo che le istruzioni Saranno simili praticamente Per quanto riguarda Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il covid Quindi Bene o male Penso che la situazione Non sarà molto diversa Anche con l'Italia Ripeto Fa giusto ridere il linguaggio Se andate a leggere La liberatoria in inglese È abbastanza divertente Tutto sommato Il tutto Comunque poi Poi ne prendiamo Sì vabbè UFC è un caso È un caso a parte Meno ne parlo Meglio è Francamente Però vabbè Non è che Non è che sia sorpreso Francamente Da un atteggiamento E della UFC E della WWE Anche tutto sommato Anche la WWE Andare a fare Restelmania Con 25.000 persone In uno stadio Non è che mi sembra Una grandissima idea Però l'ha fatto L'ha fatto Però l'ha fatto Super Bowl L'ha fatto Super Bowl L'ha fatto Super Bowl Cioè Lo fanno il Super Bowl Lo fanno anche altri C'hanno le distanze di sicurezza Sì C'è la fine Speriamo Speriamo Non mi sento di dire Che sono delle merde Che non dovevano fare No Diciamo che Di questo periodo Probabilmente non era a caso Però Se lo fai Diciamo in sicurezza Alla fin fine È tanto di guadagnato Ma infatti Il problema Il problema Non è tanto Quello che accade nello stadio Secondo me È quello che accade fuori Quello che accade Tipo vicino allo stadio L'arressa di gente Tutte queste cose qua Lì è inevitabile È inevitabile Lì da una parte Da una parte Dovrà ovviamente Fare la WWE L'organizzazione Per evitare Gli ammassi L'importante è quello Dall'altra parte Purtroppo tu non puoi Comandare 20 mila persone Che sono così Dei deficienti Perché Io posso metterti Anche tutti i paletti Che voglio E tutta la sicurezza Che vuoi Ma trovi il deficiente Che dice Ma chi se ne frega Perché Basta Riapriamo tutto Non c'è nulla Il covid non esiste È una macchinazione Dei poteri forti E tutto va a fruttane Certo Naturalmente Vediamo Speriamo bene Speriamo che non ci siano Aumenti di casi Di covid Nell'area di Tampa Poi parleremo anche Dell'evento Vuoi parlarne ora O ne parliamo poi Quando arriviamo a Smackdown Direi di aspettare Smackdown Allora A parte che Abbiamo la card A parte tre match Probabilmente Ma abbiamo praticamente Le card delle due giornate Però vabbè Facciamo prima NXT e Dynamite Ok perfetto Allora poi Su Wrestlemania Su Wrestlemania Direi che torniamo Che torniamo dopo Ma sì Ma tanto alla fine C'è comunque A parte che si lega Perfettamente Al discorso di Smackdown Ma ormai possiamo Già praticamente Non fare le analisi Di Smackdown E poi parlare direttamente Sì Parliamo giù della card Di Wrestlemania Alla fine Le due cose Bene o male Si collegano Abbastanza E allora Sono abbastanza convinto Che saranno Cioè Contando che sono Sei match Sei match E cinque match Dall'altra Mi sa che le main card Saranno da sei match Sei o sette Via Sì Sei massimo sette Via Alla fin fine Sì Tre ore di show Ti dico Sì Dipende Dalla lunghezza Però sì Possiamo Massimo arriviamo A tre ore e mezza Via Però Non penso più di tanto Alla fin fine Dipende dalla lunghezza Di match Alla fine Per quanto riguarda Per quanto riguarda Le due serate Però sai cosa Fanno due ore e mezza Fanno due ore e mezza Solitamente con sei match Due ore e quaranta Con sette match Sette otto match Con sei match Però tieni conto Tieni conto che Due ore e mezza Sei match L'abbiamo fatta All'ultimo pay per view Però gran parte Dei match Durano meno di dieci minuti Questa resta il mania Non so mica se Tanti match Durano meno di dieci minuti Francamente Comunque vediamo 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 che succede Ne parliamo poi Ne parliamo poi dopo Diciamo Diciamo di questa Della situazione Per quanto riguarda Per quanto riguarda Per resta il mania Perché comunque c'è C'è un po' di parlare C'è un po' da dire La carta No Fastlane aveva otto Aveva sette match In main card Sì E lo so Però gran parte Sono durati meno Anche di dieci minuti Poi due sono durati Mezz'ora Quello sì Quindi non so Se per resta il mania Saremo così Fortunati Diciamo Dal punto di vista Vediamo Comunque vabbè Vediamo Ne parliamo poi Con calma Con calma dopo Ci fermiamo subito Così non carichiamo Il programma Eccessivamente di pubblicità Tra pochissimo Cominciamo a parlare Di NXT Qui A Rest in caffè Parliamo di NXT Parliamo di quello Che è successo Nella serata Del mercoledì Ti dico I due show La fin fine NXT e Dynamite Per fare un discorso Diciamo Introduttivo Complessivo Per quanto riguarda i due show La fin fine Sono stati due show Che si sono lasciati guardare Niente di particolarmente Niente di particolarmente Sconvolgente Sia per quanto riguarda Dynamite Che per quanto riguarda Per quanto riguarda NXT A livello di qualità Sono stati abbastanza pari Secondo me Questa settimana Sia come lottato Anche se Dynamite Ha avuto un paio di match Un paio di match Più che buoni E NXT Anche bene o male Non è andato Tanto distante Diciamo che per quanto riguarda NXT Non è un problema Perché non è un problema Però La sensazione è che Comunque anche di Takeover È praticamente fatto Quindi si sta un pochettino Si sta un pochettino Stanno ciurlando nel manico Navigando Esatto Navigando lentamente Perché comunque Le storyline sono già belle che fatte Via Esatto E c'è tutto pronto E quindi Hanno deciso di prendersela Con calma Secondo me ci sta Giusto Ci sta Diciamo l'unica sorpresa Se vogliamo Che non c'entra Credo Cioè no In realtà Non è vero che non c'entra Però C'entra relativamente Con Takeover Il fatto che Di fatto al secondo match Lei Knight Abbia già perso Che è una cosa abbastanza Abbastanza strana Quello mi ha stupito Quello mi ha stupito Un casino Infatti quando Hanno fatto Bronson Reed Contro Lei Knight Ho detto Vabbè Qua vince Sì Vince Lei Knight Sì Perché comunque Continua a fare i pulsi Invece no Quando ho perso Ho detto Wow Questo è un upset Questa è una sorpresa Sì Questa è abbastanza una sorpresa Non sono convinto Che sia una grandissima idea Però Vediamo cosa ci fanno C'è da dire una cosa Se devi puntare Su uno dei due Cioè Se devi Puntare su uno dei due A lungo termine Probabilmente Scegli Bronson Reed Perché è più giovane Sì Per un semplice motivo Di Lei Knight Eh lo so Però È il solito discorso Se L'hai preso Perché comunque ci credi Come personaggio Anche probabilmente Farlo già subito Perdere al secondo match Ok Come Come giustamente Ha detto anche Dave Merz Le vittorie sconfitte Non vogliono dire niente In questa In questa compagnia Però Non mi è sembrata Una grandissima idea Però vediamo Vediamo Come proseguono Praticamente Con lui Nelle prossime Poi magari Se si arrendono già Boom Pazienza Quello Quello è un altro È un altro discorso A quel punto A quel punto Perché lo prendi Però vabbè Lì è È un discorso Sul quale potremo Tornare poi In un In un secondo momento No Ti ripeto Se 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 mollano Uno come Lane Knight Me ne fa Sì Perché Io sono di parte Perché a me Non ha mai letto niente Però diciamo Abbastanza bizzarro Lo presenti in pompa magna E poi il secondo match Pronti via Perde Cioè Boh Non Non mi ha Non mi ha convinto Come 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 Decisione Anche se Non mi è dispiaciuta Però ripeto Sono Sono abbastanza di parte Per quanto riguarda Per quanto riguarda Per quanto riguarda lui Non mi Non ripeto Lo sticazzismo Verso lui Esatto Non mi ha mai detto Moltissimo Francamente Le altre cose No vabbè La cosa principale Della puntata È quella che è successa Nel main event Cioè il confronto Tra Kylo Reilly E Adam Cole Sullo stage Mi è piaciuto tutto A parte gli ultimi Dieci secondi Dell'angolo In sé Per quanto riguarda Quando ha lanciato Via il tavolo Sì Quando sono messi Uno di fronte all'altro L'ho trovato abbastanza finto Francamente Come cosa Però il promo primo È stato molto bello Quindi Diciamo avrei O avrei messo più security Per fargli proprio vedere Che proprio non riescono A dividerli Perché Due persone lì A dividerli E loro che proprio Si vedeva Che si bloccavano Praticamente Per Per non menarsi Prima di tempo Non è che mi ha convinto Granché Come scena Proprio a livello visivo E non a livello A livello di angle Ovviamente a livello di angle Devi fare una cosa del genere È giusto la scena A livello visivo Tutto qua Contando anche il fatto Che poi la cosa migliore L'hai fatta dopo L'hai fatta dopo Nel filmato Che hanno messo su YouTube Dove Cole Ha menato la security Dove ha menato anche Riggle tra l'altro Quindi Non so se sta cosa Avrà conseguenze Lo vedremo Lo vedremo mercoledì A NXT Se magari Verrà aggiunto Una stipulazione Perché penso Che quando meni Il general manager Ci debbano essere Delle conseguenze A livello di A livello di storyline In teoria Però Vediamo cosa Vediamo cosa Però Ripeto La vedo La vedo abbastanza improbabile A quello che pensi te Che andano via No ma Eh beh Dipende se da su È arrivata una chiamata Non possiamo sapere Non possiamo sapere Questa cosa È anche vero che È anche vero che Se devi Se devi prendere qualcuno Per il post Restemania Perché comunque Devi ravvivare un pochettino Le storyline Adam Cole è perfetto Per mandarlo su E aggiungo anche È vero che Negli ultimi Cos'è Due anni e mezzo Che è durata L'anno di spirito di vera Forse qualcosa in più Di due anni e mezzo Quando hai debutato L'anno di spirito di vera Che non mi ricordo L'anno di spirito di vera L'anno di spirito di vera Avevo debutato nel 2017 Quindi tre anni e mezzo Alla fin fine Gli ultimi tre anni e mezzo È vero che La fortuna di Adam Cole È stata l'acto Cioè comunque L'anno di spirito di vera Però ha anche Credo dimostrato L'ho anche dimostrato prima Ma ha detto Comunque di poter Andare avanti tranquillamente Anche senza Praticamente L'entourage Quello sì Vediamo Il problema con Cole Nel main roster È il discorso Che aveva fatto Roddog È piccolo È un nano Poi aggiungo una cosa Secondo me Fare una one and done Di questa faida È un peccato È un peccato Più 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 che altro Mi pare veramente strano Che questa faida Quello sicuramente Quello sicuramente È un peccato Quello sì Quello non hai Non è assolutamente torto Vediamo Cioè allora A quel punto Perché fai l'angle Cioè perché fai Menar Rigal Cioè fai menar la security Eventualmente Però vabbè Magari sono io Che leggo troppo Sul Leggo troppo Diciamo l'angle Il video che hanno messo Che hanno messo online Vediamo che succede Vediamo cosa succede Nella serata Nella nottata italiana Scusa Tra mercoledì Tra mercoledì E giovedì Con questo Però detto questo Provo molto bello Provo assolutamente Molto bello Questo è la cosa Kyle è migliorato Veramente tanto Il microfono Oh sì Assolutamente 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 sì L'altra cosa Interessante A livello di sviluppi Per quanto riguarda Takeover Di questa Di questa puntata E il Ah tra l'altro Dimenticavo Non so se stanno suggerendo Qualcosa con Shawn Michaels E Adam Cole Tu cosa Cosa dici Perché continuano Continano a fargli A fargli vedere Che comunque Si guardano in Cagnesco Nel backstage Cioè È una cosa Un po' bizzarra Perché Può essere Però Non penso Cioè non fai uscire Maikos Cioè non so se Maikos vuole uscire Dal ritiro Eh l'ha già fatto L'ha già fatto Una volta Se ne è pentito Se ne è pentito Amaramente Se ne è pentito Sì l'ho detto Non abbiamo parlato Però ha fatto Un'intervista In cui ha detto Sì mi sono pentito Praticamente Di fare quel match In Arabia In Arabia Sudita Ben pagato Ma mi sono pentito Diciamo Di fare Di fare il match Perché comunque È venuto Una schifezza E l'avremmo visto Anche nel Cos'era WB24 Che avevano fatto No In quello Ah no Nel last drive Che vedevi Micheals Che diceva L'ho mancato Di tanto così Quando ha fatto Il moonsault Che è andato Virato a vuoto Fuori dal ring No dicevo Parlando di Micheals Parte questa cosa qua Con Adam Cole Si è inserito Nel discorso Tra Nel discorso Il titolo Cruiserweight Lanciando Un bel suggerimento Anche secondo me Per il Per il Per il Per il Più che Semplicemente Han detto Dobbiamo fare Un ricorso Storico Buttiamo fuori La persona Beh Micheals Comunque Non l'hanno detto On screen Però Diciamo che Si sa abbastanza Che lui comunque È un dirigente Alla fin fine A NXT Quindi È vero che L'hanno presentato Come l'all of Framer Come Diciamo Come la Come la Personalità Che si inserisce In questo momento Però È un coinvolgimento Era un coinvolgimento Dal punto di vista Dirigenziale Se vogliamo Comunque Lui praticamente Praticamente È uscito Mentre Escobar E Jordan Devlin Stavano Battibeccando Sul ring E gli ha detto Vabbè Abbiamo due titoli Cruiserweight Dobbiamo unificare La takeover Top Pigliatevi sta scala Vediamo 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 se Vi suggerisce Qualcosa A livello Di A livello Di Da Quello Di Restelmania Certo Da quello Di Restelmania Tra lui E Secondo Secondo È un bel Modo Di Movimentare La Situazione Già Il match Per il titolo Cruiserweight Poteva essere Comunque Godibile Dal punto di vista Dell'azione Adesso Potenzialmente Può diventare Ancora meglio È una bella Carta Di cover Comunque Non scherzando È una Buonissima A livello Di A livello Di stipulazioni Speciali Ci sono solo Questa E il Il ladder Match E l'uncension E l'uncension Sì Con le squalifiche Cioè Uno contro Uno Al massimo Triple Tretto Match assolutamente Normali Esatto Match assolutamente Normalissime Per quanto riguarda Per quanto riguarda Takeover Takeover Stand Sarà in due Serate La prima Serata Sarà disponibile In Italia Legalmente Nella mattinata Di giovedì Su Discovery Plus Mentre invece La seconda Serata Sarà in diretta Sul Il WWE Network Perché ricordiamo Che il WWE Network Rimane Non è la serata Stand La seconda Deliver Non è la serata Stand Tornando Tornando a noi Tornando ad altre cose Praticamente Ecco Purtroppo per questa Questione Per questa questione Di Diciamo Il titolo Curiore C'è andato un po' Di mezzo Cuscida Che ha perso In questa In questa Contata NXD Vero che ha perso In modo sporco Perché comunque C'è stata L'interferenza Da parte Del legato Del fantasma Però Il discorso Sembra un po' Quello Sembrano Volerci fare qualcosa Con Cuscida Poi no Non si capisce Il suo Il suo ruolo All'interno Di NXD Perché aveva fatto La faida Con Gargano Per il titolo Nordamericano Aveva perso Pulito Per carità Aveva perso In modo pulito Con Gargano Rimane un po' Lì Cuscida Che è un peccato Non mi sorprende Diciamo Tutto sommato Perché comunque Alla fin fine Non so Quale Possa essere Il suo ruolo Nel 2021 In un brand Come NXD A meno che Non lo mandi A meno che Visto che sia Devlin Che Scobar Sono il Poi non gli giri Non mandi lui Per il titolo Per il titolo Cruise Ecco Quello potrebbe già essere Diciamo Una buona Una buona Soluzione Chiunque sia Il Campionato Secondo te Chi vince A Takeover Tra Devlin E Scobar Non lo so Perché Cioè Secondo me Devlin Ti direi Anch'io Ma per il Semplice fatto Che comunque Ha ripulito Se vince Scobar Ha ripulito Praticamente La divisione Sì lo ha già fatto Di fatto Quindi Andrei più su Devlin Francamente Per movimentare Un pochettino Le acque Quindi Andrei più su di lui Francamente Che non su Che non su Scobar Sì Sì Motivo molto 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 Semplice Alla fine Tornando Scusatemi Tornando Tornando un attimo Ad altre cose Di questa puntata Di Di NXT Parlando della Cardi Takeover Quanto meno Avremo un antipasto Nella prossima puntata Perché avremo Una bellissima Battle Royale Praticamente Nella prossima puntata Di NXT Con 12 contendenti Una Battle Royale Un po' particolare Mattia Perché avremo Una Battle Royale Con 6 vincitori Innanzitutto Esatto Cioè arriveremo Praticamente da 12 A 6 Alla fine Allora Se arriva 12 a 6 Poi diventa Di quei 6 Quei 6 poi vanno A eliminarsi A vicenda Devono comunque Eliminarsi Anche quelli A vicenda E in base Entrare in 3 Oppure Dopo ogni match Praticamente Credo che sia Credo che sia Come quello Che hanno fatto Quando Kyle Divende Number 1 Contender Che non ricordo Iniziano in 2 Scade il tempo Arriva a un terzo Scade il tempo Arriva a un quarto Scade il tempo Arriva al quinto Quindi di fatto Diventa un Elimination Chamber Senza gabbia Sostanzialmente Comunque un match Dovrebbe essere Come il Gun 3 Eliminator Che hanno fatto Quando Kylo Reilly Divenne per la prima volta Number 1 Contender Prima di NXT TakeOver 31 È leggermente Leggermente diverso Rispetto ai classici Gontet È sempre un Gontet Quindi lo odio A prescindere Per il fatto Che ne abbiamo visti Troppi Però È leggermente diverso È leggermente diverso È questa cosa Che entrano Una alla volta Che può trasformarsi In un match A 3 o 4 Seconda Un match 3 a 4 A 5 Secondo me Già lo rende più interessante Sì 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 Assolutamente Quello è assolutamente vero Quello è assolutamente vero Tornando alle altre cose Quindi questo accadrà Poi a TakeOver Stand and Delivery Il vincitore di questo Di questo Gontet Di questo Gontet Eliminator Che si svolgerà La prima sera Corregimi se sbaglio Poi la seconda sera Ci sarà il Ci sarà A quanto ho capito Sì A quanto ho capito Sì Settimana prossima Anche perché c'è una puntata Prima di Stand and Delivery Quindi non è che ci sia molto tempo Settimana prossima c'è la Battle Royale Sì E tra l'altro Nella Battle Royale Roddy Nella prossima puntata Roddy e Grimione Fanno Double Duty Perché fanno sia la Battle Royale Che il maestro di loro Sì 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 Quindi vediamo Vediamo cosa succede Però sì Di base credo che sia La prima sera Il Gontet E poi la seconda sera Sì Credo che ci sia Basta che possiamo andare Ci sono le due card Di NXT C'è la card di Stand E la card di Delivery Smettila Comunque sì Adesso la vado a riprendere E confermo infatti Che la prima sera C'è il Six Man Gontet Eliminator Match Per determinare Il number one contender Con il match L'unica cosa che mi piace È che Il triple threat Tag Team Match Per i titoli maschili L'hanno messo Nella puntata A Stand E non a Delivery Più che altro perché E beh però Qualcosa E anche Walter Ciampa Perché più che altro Ci saranno le Le pubblicità in mezzo Quello sì Però è anche vero Che se devi mettere qualcosa Su USA Qualcosa devi pur mettere Alla fin fine Non è che puoi fare La card con la fuffa La prima sera E poi la seconda sera Mettere il meglio Alla fin fine Qualcosa Per equilibrio Devi pur farlo È un po' quello che Se guardi È fatto con Rest Elmania Cioè Alla fine Rest Elmania Le due card A livello di titoli Sono quantomeno equilibrate Poi A livello qualitativo Ed è la stessa cosa Secondo me la seconda sera La seconda sera è meglio La seconda sera Secondo me A livello qualitativo È meglio È mille volte più interessante Della prima No ma al di là di tutto A livello qualitativo Secondo me è migliore La seconda rispetto alla prima Comunque poi ne parliamo dopo Quando vediamo la carta Di Rest Elmania intendo No diciamo La prima sera La prima sera avremo Yoshihai contro Raquel Gonzales È nata avanti anche La loro rivalità Questa settimana Non so se sarà Cioè il main evento È questo No no Han detto che è il main evento Credo Della prima serata Quindi penso di sì E alla fine Alla fine praticamente La Gonzales ha attaccato Io La Gonzales ha attaccato Yoshihai nel Tech Team Match Che c'è stato in apertura In apertura di puntata Ovvero Dakota Kyra Che Gonzales Contro Zoe Stark E Yoshihai L'ha schiantata Praticamente sul Sul tavolo di commento Non molto salutare Immagino Per Yoshihai Però Però alla fine Infine è un modo Per portare avanti la fight Siamo tutti d'accordo Che A Stan Lee Vedremo un cambio di titolo Praticamente Su questo titolo Tito femminile Non penso Non penso che la Shirai Conservi francamente Al pay per view No neanch'io Ma anche perché Se no anche lei Ripulito la divisione E infatti Non ha O portano su Nel senso O Cioè o la mandano O poi non so Debutta Taya Valkyrie E la mandano contro lei Però Effettivamente non mi viene in mente Non mi viene in mente Altro da far fare potenzialmente Yoshihai Dopo un'eventuale Conferma del titolo A Takeover Stand and Deliver Andrei per il cambio di titolo Magari le farei anche andare avanti Le farei anche andare un pochettino avanti A livello di A livello di fight Tornando 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 a noi Tornando a noi Ecco Possibile match per Takeover Possibile match per Takeover Qualcosa con Roderick Strong Alla fine Roderick Strong contro Non lo so Secondo me Roddy è nel Grounded Eliminator Ah ok giusto Vabbè sì sì No sì magari Non so magari Visto che questa settimana Questa settimana Praticamente Cameron Grimes E Roderick Strong Si sono Diciamo Si sono Si sono menati Praticamente Con Stroke Che l'ha colpito Con un cazzottolo in faccia È vero che sono nel God Però magari Se nel God Si eliminano entrambi Magari possono andare a fare Un altro match per Takeover Stand and Deliver Non so Non so se c'è spazio Non so se c'è spazio in card Non so se c'è spazio In card Per diciamo In una delle due serate Però vediamo Allora In teoria Le due serate Hanno quattro match Esatto Per ora sì Per ora sì O ne metti un quinto Nella seconda nottata Che puoi farlo Perché comunque Sei su picco Che quindi un pochino di più Puoi durare Dell'ora e quaranta Che solitamente dura In NXT Sì perché ci sono le pubblicità Perché per le pubblicità E mezza esatto Oppure Le card sono quelle Rimangono quelle Vediamo Vediamo Un pochettino Tra l'altro Sarà interessante Vedere se chiudono Con Balor Mi pare L'abbiano detto Che il main event Sia Balor Cross O chiudono con L'Uncension No Credo abbiano detto Che chiudono con Balor Cross Perché Credo di aver sentito Main event Parlare di Parlare di Balor Cross Però ti ricordo Che anche quando Hanno fatto l'Uncension Tra Gargano E Ciampa Dicevano che il main event Era Coso Come si chiama Eh lo so Lo so C'era Black contro Andrade Vero Però è anche vero Che bisogna vedere Che intenzioni Hanno l'orge Nel senso Se vogliono veramente Almeno per questa volta Promuovere Il titolo del mondo Comunque Come la cosa più importante O se vogliono promuovere L'Uncension Come la cosa più importante L'unico modo Secondo me Per fare una cosa del genere È veramente Se fai la stipulazione Che uno dei due Se ne va Alla fin fine Allora in quel caso Puoi anche Puoi anche metterlo Come main event Messo come semplice Uncension Così Andrei ancora Su Balor Contro Cross Come main event Più che c'è il titolo C'è il titolo NXT Alla fine Coinvolto Che è comunque La cosa più importante Del brand Alla fine Parlando di tratto Di Carrion Cross E di Carrion Cross E di Balor Hanno avuto un Diciamo Un buon confronto In ring Praticamente Dopo La vittoria di Carrion Cross Sai che avevo La sensazione Che ritirasse fuori il Demone Che Ho avuto per 30 secondi La sensazione Che stesse ritirando fuori Potrebbe tirarlo fuori In un eventuale rematch Cioè In un eventuale Però Però a quel punto Però a quel punto Cosa fai Lo fai perdere O lo fai vincere Sì Lo fai perdere Il Demone ha già perso Quindi puoi anche Eventualmente Fottertene Il Demone contro Chi ha perso Aveva perso Il match Contro Spetta Ha perso Ah Samoa Joe Con Samoa Joe Esatto Ha perso contro Samoa Joe Ha perso anche nel Main Roster Credo Lo sbaglio No nel Main Roster Mi sembra che non ha mai perso Il Demone Non aveva fatto il match Che doveva fare il match Contro Wyatt E poi Il famoso Pittato contro Pittato E il messo di tutto L'aveva perso Poi No Era contro AJ Styles Aveva vinto Contro AJ Aveva vinto contro AJ Aveva vinto contro AJ Sì E poi il giorno dopo A Raw Giobbo pulito Kane Ok 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 Però era pulito Sì però era normale Diciamo esatto Esattamente In versione Demone Balor mi sembra che nel Main Roster Non ha mai perso Ok Ah no ha perso Come si chiama No vabbè sì Con Wyatt Nuova versione Aveva perso Ma era normale Però non era pittato Esatto Quindi niente Altra sconfitta Effettivamente Non le ricordo Solo Joe Solo Joe Quando ha perso Quando Ha takeover Di End Sì esatto Giobbo Esattamente Con A TLC Sì praticamente Sì TLC doveva affrontare Doveva affrontare Come detto Wyatt E Come Affrontò Stiles Esatto E lì perse Alla Rumble Non si presentò Da Demone Sì La Restelmania Non si presentò Da Demone Sì effettivamente Effettivamente Non ci sono altri precedenti Tra Diciamo Con Con Mi sembra che si infortunò E poi è tornata In NXT Vediamo Forse non si era infortunato Ma praticamente Non lo usavano Non mi ricordo Vediamo Diciamo che Se lui perde Contro Karrion Kross Ha senso che Tiri fuori Effettivamente Il Demone Soprattutto se lui Si presenta Si presenta Normale Tra virgolette A Takeover Standing Però vediamo Vediamo un pochettino Cosa 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 succede Alla fine Tornando a Comunque Buono il confronto Buono il confronto In ring Tra Karrion Kross E Finn E Finn Balor Celebriamo La vita Di Drake Maverick Che si è interrotta Mercoledì sera Quando ha affrontato Ha affrontato Walter Ammetto che mi è mancato Walter Mi sono mancati Diciamo I papagnoni Diciamo Di Walter Ma lui Lui l'ha fatto Per Lui l'ha fatto Per Per il suo amico Io Ho capito Perché l'ha fatto E lo stimo Perciò Ok va bene Va benissimo Tra l'altro Parlando di Parlando di Maverick Che fine La domanda è Che fine ha fatto Killian Dain Alla fine Perché ci chiedevamo Cioè mi chiedevo Che fine ha fatto Secondo me Nella storyline L'idea è che l'hanno Rapito gli Imperium Perché comunque Gli Imperium Era un po' Di Cioè se ti ricordi C'era Alexander Wolff Che andava Dole e diceva Tu eri una bestia E adesso stai qua A fare l'amicone Di questo Sgombio Cioè è sparito Però effettivamente Non sappiamo O veramente È un altro Che è fuori Per il problema Del covid A livello Diciamo Di Indisponibilità Reale Praticamente Del lottatore O effettivamente È un pochettino Sparito Dalla Dalla circolazione Però vediamo Naturalmente Vediamo cosa Vediamo cosa fanno Alla fine E poi Per quanto riguarda Per quanto riguarda Altre cose No Anche parlando Di buoni Di buoni confronti Buono il confronto Tra Tra Ciampa Tra Ciampa Tra Ciampa e Walter Con Un match Che sul quale Mi aspetto Mi aspetto molto Francamente Anche io Sarà una discreta Sarà una discreta Sacra delle mazzate Non penso che Vinca Non penso che La cosa Perché se no Veramente Non ci sono avversari Per Non c'è nessuno Quindi magari Può essere che Lo fai vincere Però la domanda La domanda Nasce spontanea A quel punto Cosa fai? Ciampa lo mandi In Inghilterra? No Lo rivince Fanno il rematch E lo rivince Walter Non lo so Non lo so Perché puoi anche Mettere Diciamo Puoi anche mettere Ovviamente Ciampa come Campione Come campione Campione inglese Campione UK Della WWE Però Alla fin fine C'hai un brand Da mandare avanti Il tuo campione Non sarebbe lì Quindi Vero che Non si sono fatti I grossi problemi Con Con 205 Live Dove Escobar Non c'è mai Ormai A 205 Live Però Però Con NXT UK Non so quanto Possa essere Una buona Una buona idea Perché già Diciamo Vive molto Anche dalla prevenza Di Walter Fisicamente Qualche match Walter NXT UK L'ho effettivamente L'ho effettivamente Fatto Altre cose Da NXT Di questa settimana Ah no Abbiamo Ember Moon E Shotzi Blackheart Contro Mercedes Martinez Ealia Mercedes Martinez Che è stata Corrotta Potrebbe raggiungere The Way Contro Beh di fatto Sono state sfidate No Quindi Direi che A sto punto Non dico che il match È praticamente ufficiale Però quasi Alla fin fine Perché comunque Perché comunque Alla fine La sfida è arrivata Ci arriveremo Probabilmente Alla diciamo A sancire Praticamente il match In maniera In maniera In maniera Ufficiale Tra Ember Moon E Shotzi Blackheart Contro Contro Kane's Lorraine Di Hartle Per i titoli tag Femminili di NXT Rimango dell'idea Che sia una ghettizzazione Però ormai La decisione Di fare Di fare le cinture Ormai l'hanno L'hanno presa E altre cose Non mi pare Ci siano Stavo guardando Purtroppo non abbiamo Purtroppo non abbiamo Gianluca In collegamento Perché volevo chiedere Un'opinione sua Sulla sconfitta Di LA Knight Però per il momento Non è che Non è successo Fatti delle domande Perché non c'è Ah no Arriva per le 18 Mi dice Quindi arriverà tra poco Alla fine Quindi tra poco Vabbè Inizia a parlare di Dynamite E poi No aspettiamo Sì aspettiamo Possiamo farlo alla fine Dynamite Cos'è almeno Perché cos'è almeno Lo prendiamo Lo prendiamo bene Chiudiamo praticamente Con 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 quello Oppure no Aspetta no Parliamo di Dynamite O possiamo No vabbè Cominciamo a parlare di Dynamite Poi alla fine Alla fine Poi si unisce Si unisce Torniamo il pattern Solito Alla fine No potevamo anche Registrarla E poi E poi unirla dopo Però alla fine Però alla fine Poi posso Posso confondermi E faccio E faccio anche casino No per mercoledì prossimo Cosa hanno annunciato Per NXT A parte il Gauntlet A parte la Battle Royale Scusami La Battle Royale E Roddy contro Grimione Si esatto E mi sembra basta Mi sembra basta Sembra che non c'è altro Vediamo Stavo guardando Se c'è una strazzata E mi sembra Che c'è soltanto Buongiorno È un momento Un momento di defaianza Tranquillo Alla fine E ogni tanto capita Sì no Eh vabbè Cose che possono Ecco qua Arrivato Gianluca Se vuoi dire Chi c'è nel Gauntlet Nella Battle Royale Non me lo ricordo Sono Roddy Grimione Allora sono Roddy Grimione Loomis Bronson Reed Elaine Knight Sì Swerve Vado sul sito di NXT Così almeno vado Vado a prendere Credo ci sia anche Leon Ruff Sì Ci dovrebbe essere L'assistito di Michael Beavens Che adesso non mi viene il nome Talelast Sì esatto Talelast Sì esatto Giusto Mi sembra che c'è anche Cuscida Eh vediamo Aspetta Vado un attimo Sul sito di NXT Veders Se mettono qualcosa Praticamente Per quanto riguarda Per quanto riguarda Questa Questa Battle Royale Della prossima Della prossima Settimana Però al momento Non vedo Non vedo Non vedo molto Francamente No Non vedo Non vedo Non mettono Non lo mettono Nel sito Quindi No no aspetta Vediamo se la trovo Vediamo Vediamo se Vediamo se riusciamo Se riusciamo a trovarla Praticamente Battle Royale NXT Gauntlet Vediamo se Vediamo se mi metti Perché c'era la grafica Però non Non è segnata Eccolo qua Trovato Vai Sono Cuscida Leon Ruff Austin T Allora sono Tyler Rust Dexter Loomis Bronson Reed Pete Dunne Roderick Strong Cameron Grimes Isaiah Swerve Scott Che abbiamo visto Tratto in un promo Questa settimana Leon Ruff Cuscida Austin Theory Riella Knight Tyler Rust Jake Atlas Questi sono I dodici partecipanti Se esiste un dio L'Eliminator Lo fanno Cuscida Sì Grignone Roddy Dan Dan E Austin E Austin Theory Se esiste un dio Sono in 5 Ne manca uno E io ti butto Tyler Rust Perché a me piace molto Tyler Rust Però se esiste un dio Visto che Dio non esiste Visto che Dio non esiste Ci saranno dentro Dexter Loomis Bronson Reed Dexter Loomis secondo me lo vince anche Poi il God Anche secondo me Sì Perché andrà E Le Knight Beat Dan E E forse uno tra Roddy e Grignone Io arrivo su Vai un attimo Dalla cagnolina Che richiede La tua attenzione La sentiamo In cupia Quindi Vai pure richiedere Vai pure diciamo A dare attenzione Non so se Gianluca ci sente In questo In questo momento Perché vedo che al microfono Eccoci qua Sì al microfono attivato Buongiorno Gianluca No Buongiorno Continuate voi Buonasera ormai Anzi Buono sport a tutti No volevo chiedere Da Mark di LA Knight Cosa pensi del fatto che Alla second Secondo match L'abbiamo già seccato Praticamente NXT Tanto il contro E te entra Sì lo so Però il fatto che abbia già perso Contro Bronson Reed Bene Bene Ma non benissimo Diciamo Eh lo so però se È il solito discorso È vero che le vittorie L'abbiamo detto prima È vero che le vittorie Sconfitte Non voglio dire niente In questa compagnia Però insomma Secondo match Pronti via Perde Non mi sembra Un grande inizio Francamente Ma non è colpa sua Naturalmente Non è nessuno da colpe Ma è iniziato così Anche Loomis E guarda dov'è Vero No Loomis Loomis ha perso già Il secondo match Non mi sembra Francamente Anzi No Cioè I squash E poi nelle grandi fight Non è che Poi hanno capito Il suo personaggio Cioè Non ci punteranno Granché Ma non è finita No Non sto dicendo questo Non sto assolutamente Dico solo che Anche perché Se tu vengono Sorridere Era peggio No Dico solo Arrivato in pompa magna Così Comunque Promo Settimane di promo Eccetera Eccetera Pronti via Primo match Serio Tra virgolette Perde Pulito Peraltro Quindi Boh Cioè Mi Mi lascia sorpreso Sfrutta Bronsor Reed Elimina quelli che Fatticchia Bronsor Reed Mi lascia Mi lascia Perplesso Quanto meno Il Come posso dire La decisione Da parte della W.I. Di farlo Ma se perdeva Bronsor Reed Era un casino Perché comunque Ci puntano anche su di lui Vabbè Non buchi Quel match Che è il solito discorso Se non puoi Se non puoi Far perdere Nessuno di due Perché buchi il match E' lo stesso di Leslie Shemus Perché farlo Che non serviva No infatti Perché farlo Se ci puoi E' infatti E' infatti Non è una scusante E' un aggravante Diciamo In questa In questa gestione Alla fine Più gatto Più gatto poi Perché l'hai anche Bucato alla pari Leslie contro Shemus Che è stata la cosa Più Più bizzarra Di tutta questa Ma il concept è lo stesso Perché farlo L'hanno fatto Entrerà nel Gontlet E si vendicherà Ok Se li perde Farà un terzo No no Sono d'accordo Però ti dico Ti dico Non è una giustificazione Pretendo che Golter Secondo me lo vince Secondo me lo vince Lo vince Loomis Perché vanno a fare Loomis Lo vince Dexter Loomis Proprio di Proprio In scioltezza Deve No deve Deve no Deve no Però per la storyline Ha senso che vinca lui Perché comunque Ho la sensazione E' quello il guaglio Il guaglio è quello Veramente ci vuole Qualcos'altro Il guaglio è quello Alla fine Il guaglio è quello Ma non è una gimmick Che funziona Sì ma l'hai visto Lottare Loomis Quello è il discorso E' appunto Che è il problema E' sei e mezzo fisso E' come le Knight Sei generoso Sei generoso E quindi Sono un problema Quale? Che fanno sei e mezzo fisso Che sono dei sei Stiracchiati Sono un problema Se vanno over La gimmick Funziona Va benissimo A NXT Dopo un po' Ti dicono Senti O miglioriamo Ti mandiamo su O se no Joby Al prossimo Se no migliori Ti mandiamo su Non mi pare Una grande soluzione Per il main roster Francamente Però vediamo Ma la gimmick Sono quei cosi Che funziona Cioè lui è over Ma poi Ai suoi limiti Ai suoi difetti Però è andato over Non lo puoi sapere Alla fine Se è over Cioè Non c'è il pubblico C'è il pubblico registrato Ma le interazioni Tutto Guarda che Loomis È andato Partito da veramente Questo qui Le mandatecelo via La prima settimana È andato over Cioè Per lui Partivano veramente Da Boh Il discorso Più che altro Non puoi dire Se è andato over o meno Perché non c'è il pubblico Non c'è il pubblico Quindi non puoi Non puoi stabilirlo Se va over o meno E quei 10 E quelle 50 persone Anche 40 20 persone Che ci sono dentro Non fanno molto testo Non fanno il casino Per far capire Se sono veramente loro Se sono i coi Perché ci sono Ragazzi È un lottatore Che un anno E ci stanno dietro Per loro è over Se no Dopo 6 mesi Avrebbero detto Non parli Stai a casa Ma non è questione Per loro è over È questione Che comunque In questo momento Contando che non c'è il pubblico Possono fare quello che vogliono Possono fare il cazzo Che vogliono Esatto Però non puoi dire È giusto È giusto È giusto nel main roster Che Diciamo Allora Nel main roster Nel main roster Nel main roster Nel main roster Quanto meno Un evento Con la gente Ce l'avranno Che è il Wrestlemania Quindi in base a quello Hanno preso Certe decisioni Relativamente A Wrestlemania Vedi per esempio Cambiare il main event Di Smackdown Però Alla fine A NXT Visto che comunque Il pubblico non c'è Perché comunque Hai 30-40 persone Però non è che facciano Molto testo Praticamente Puoi anche permetterti Diciamo Di fare quello che vogliono Fanno quello che vogliono Anche nel main roster Intendiamoci La dirigenza La dirigenza Dice Dice che Dice che per loro È uno che Va tenuto in alto Ma Dirmi È andato over Non è vero Non lo puoi sapere Se è andato over Non è che non è vero Non puoi saperlo In questo momento Perché non hai la controprova È la dirigenza Che ha deciso Che deve rimanere su Ma non puoi dirmi Che lui è andato over Quest'anno Perché non lo puoi sapere Esatto Non è che non è nato over Perché magari è nato over Però in questo momento Non puoi saperlo È andato nelle grazie Della dirigenza Quello sicuramente Quello sicuramente Nessuno lo mette in dubbio Con tutti i difetti I problemi che ha Perché quello Non lo nasconde nessuno Certamente Neanche loro Sono nometti Non è che ti hanno mai detto Dexter Lumis È la pietra Definitiva Su cui costruiremo NXT La gimmick Per loro funziona Per le loro percezioni È uno su cui puntare Continuerà così Per me vince il gol Vince il titolo E poi Più di quello Dipende da loro Certo Più di North American Title E una shot al titolo NXT Non può avvenire Poi Una proprio In transizione Però Secondo me va su prima Vediamo Vediamo cosa Cosa ci fanno Stavamo per parlare Di Dynamite Però Mi diceva Un aggiornamento Che Drake Maverick Ha twittato Che è vivo E due minuti fa Si era chiesto Dov'è Killian Dane Che fine ha fatto Killian Che fine ha fatto Killian Ce lo chiedevamo anche noi Ok benissimo La buona notizia Che comunque Che comunque È ancora Diciamo Che tra l'altro L'aveva scritto il 25 marzo Quindi comunque Era ancora vivo Era due giorni fa Esatto Quindi rispetto Meno male Meno male Ancora una piccola Interruzione pubblicitaria Tra poco Qui a Restai Caffè Cominciamo a parlare Di AW Dynamite Allora Dicevo Parliamo di Dynamite Parliamo di quello Che è successo Nella puntata Di Diciamo Di mercoledì sera Con Gianluca Puntata normale Francamente Puntata Senza infamie Senza lode Con del buon lottato Niente di particolarmente Niente di particolarmente Offensivo Direi A livello di cose Hanno fatto puntate migliori Ne hanno fatte anche Di peggiori Fortunatamente Non ce ne sono state tante Di brutte puntate In un anno e mezzo Di Dynamite Si è lasciato a guardare Direi questa puntata Alla fin fine Niente di più Vai Sì Ma non c'avevano Anche come Come richiamo C'avevano poco Sì Quindi ci sta Che fai In un belì Esatto Anche se avevi il tuo campione Però non c'avevi Vabbè Cody Che ci ha detto Che fa Miss e Miss Buon per lui Sì esatto Ma sarà più bello Di Miss e Miss Non lo sto Guarda Con tutto Perché non si inventeranno Le storyline Ma sarà tutto reale Certo Come no Sì sì La barra va detto Che è piuttosto bassa Alla fin fine Però Però diciamo Vedremo gli allenamenti Di lei Non sarà come Come Total Diva Su queste cose qui Che si inventavano le cose Lì sarà tutto reale E bellissimo Seguiremo Certo La gravidanza Seguiremo Cody Padre apprensivo Che c'è sempre Che non è distratto Dal lavoro O dalla compagnia Ma ha tempo Per sua moglie Assolutamente sì Ah no Tornando Comunque vabbè No Più che altro Scherzi a parte Adesso vabbè Lo show sarà ovviamente Una schifezza Il fatto Come tutti i reality show Ti dico Sarà interessante Vedere Quanto questa reality Possa interessare Al pubblico Nel senso che Ho notato Che comunque L'AW Sta esponendo Cody Come il loro uomo Immagine Oltre il resting In tv Sì dall'inizio Già di fatto Beh Io credo che sia Anche comunque Probabilmente una richiesta Anche nel network Perché comunque Lo prendono E gli mandano Lo mandano fare Il reality show No scusate Lo mandano fare Il talent Adesso ci fanno Reality show Quindi evidentemente Anche TNT Probabilmente Hanno questa idea La cosa che secondo me Sarà interessante È vedere Quanto effettivamente Sia un drawer Sotto quell'aspetto Sì Quello si Per me è interessante Io credo Allora Io credo che sia Ci sono diverse cose Probabilmente il network Lo chiede In secondo luogo Il fatto che gli hanno Approvato questa roba qua Vuol dire che comunque Il rapporto tra l'AW E il network È ottimo Perché se Se fosse un rapporto Pessimo Non gli approvi Sta roba Perché comunque Ha sempre più spazio Contiamo che c'è anche Il secondo show Che sta arrivando Della Della EW Che dovrebbe arrivare Entro l'anno Quindi evidentemente Il rapporto Cioè non tanto il rapporto Tra EW E TNT O comunque Gruppo Gruppo Warner Media È ottimo Evidentemente Sono anche molto soddisfatti Loro Evidentemente Dei risultati Dei risultati Che sta avendo l'AW A livello A livello di ascolti E quindi sono ben disposti A dare spazio Praticamente A programmi A programmi di questo tipo In terzo luogo Sì Vediamo anche se Questa cosa Riesce a fare Una Diciamo Riesce a fare una cosa Che negli ultimi tempi L'AW Non sta riuscendo a fare Cioè prendere Il pubblico femminile Perché il pubblico femminile Andando a vedere I dati di ascolto Americani Nelle varie fasce Il pubblico femminile Chiedo scusa È crollato Negli ultimi mesi E probabilmente La direzione Che hanno preso Con Diciamo Con i match hardcore Con Tipo il match femminile Dove comunque Si sono cartellate Come fabbri Tavoli Sangue Tutto quanto Questa direzione Che hanno preso Negli ultimi tempi Evidentemente Non sta pagando Con il pubblico Femminile Bisogna ritornare Evidentemente A trovare un equilibrio O trovare una storyline O comunque Delle situazioni Che coinvolgano O interessino Il pubblico femminile O cercare Un pochettino Di limitarsi Da quel punto Di vista Perché il pubblico maschile Sta aumentando Il pubblico maschile È comunque Se non sta aumentando È stabile Quindi comunque Non ha particolari problemi In questa direzione Il pubblico femminile È crollato Quindi bisogna capire Come mai Il pubblico femminile È crollato E l'unica cosa Che è cambiata Nel periodo In cui il pubblico femminile È cambiato È che sono Un pochettino aumentati Questo tipo di match Quindi Probabilmente è quello Probabilmente è quella direzione lì Che è diciamo Un pochettino più violenta Se vogliamo Che al pubblico femminile Che guarda Che guarda Dynamite Lo spinge Che spinge il pubblico femminile Che guardava Dynamite Prima magari a guardare A guardare Challenge O a guardare A guardare qualche altro reality Che è in onda in quel momento Sull'ottimo americano Real Housewives Credo che sia in onda In quel momento Mercoledì Mercoledì sera Quindi bisogna capire Come mai O si aspetta Che finiscano questi programmi E si aspetta Diciamo Una diaspora naturale Praticamente Il pubblico femminile O cambi direzione Cambi direzione E vedi che succede Vero anche Ricordiamo anche Che comunque Tra due settimane Tre settimane Anzi chiedo scusa No due settimane No tre settimane Tre settimane Tre settimane Comunque Al mercoledì sera A livello di wrestling Sparisce la concorrenza Perché NXT Si sposta Armi Magaglia Il martedì sera E Dynamite Rimane il mercoledì sera Vedremo se Questo spostamento Questa mancanza Di concorrenza Porterà L'AW E anche NXT Di riflesso Naturalmente E penso che per NXT Sicuramente accadrà Ad aumentare gli ascolti Di quel 100 150 200 mila Che può portare L'AW Da fare 700 750 mila A 900 mila Fissi Quindi vediamo Che succede Da quel punto di vista Vediamo cosa accadrà Sparendo appunto La competizione diretta Certo è che Negli ultimi tempi Comunque Con il cambio Di direzione Alla fin fine Alla fin fine Praticamente Il pubblico femminino È calato E l'unico Cambionetto Che ha avuto Effettivamente Praticamente Prodotto Di W Negli ultimi tempi È proprio Quella direzione Lì C'è comunque Una direzione Un po' più violenta E match Anche con le donne Un pochettino Più violenta Anzi Un pochettino Non piace a tutti Ma è la cosa migliore Sì no infatti Cioè Devi fare Il prodotto Cioè È dura È dura Come posso dire È dura È dura È dura È dura È dura È dura Però bisogna Farla Perché comunque Sì no È duro Trovar l'equilibrio L'equilibrio È duro Trovarlo Non è Diciamo Non è facile Trovare un equilibrio Però è la cosa migliore Per prendere più Diciamo Più fasce possibile Alla fine Di pubblico Ma vale Ma vale per tutti Ma vale per tutti Non vale per il dressing Vale per tutti i tipi di prodotti Non vale Non vale Ma l'abbiamo visto Prima Non possiamo sempre Prenderla in consegna Perché non si può fare Paragoni Però Gli altri Lo fanno Cioè bisogna Comunque fare Un po' e un po' Cercando di mettere Qualche Quel tono Di Un po' Artcore Un po' Super lottato Luce a libre Vedetti L'MLW Che è una minor Sì È da anni Che decide Che si fa Luce a libre Si fa storyline E si fa vecchio stile L'MLW Deve prendere un po' Di tutto E venderle Perché comunque Deve fare ascolti Fare soldi E non è mai facile Perché se fai Gli ultra hardcore Giapponese O il sangue Qualcuno se ne va Non male Come se fai solo storyline Normale Uno dice Voglio vedere il sangue Ciao Non guardare i tabic Vediamo Vediamo che succede Non c'è comunque Un calo Assolutamente Il rischio Di diventare Robo da maschi È esatto Che poi arrivi a un certo punto Che più di roba da maschi Non può essere Quindi Se sei una compagnia Che C'ha la divisione femminile C'ha comunque una signora A livello di dirigenza Che deve comunque Costruire qualcosa Se il tuo pubblico femminile È zero Esatto È stata fa Esatto Oppure ci state Con ovvi discorsi Ovvero Dobbiamo inventarci qualcosa Per fare appeal Però rischi Rischi poi di andare Troppo E reality Sì Qualità effimera Chi se ne frega Però per il pubblico americano Tipo Total Bellas Tutti a dire di merda No esatto Total Bellas E Total Divas Comunque oggettivamente Numere alla mano Pubblico femminile A vedere La WWE Un pochettino Ne ha portato Oggettivamente Quindi Quindi diciamo Da quel punto Però se lo avevano creato No Se lo sono anche tenuto Se lo sono anche tenuto Più che altro Se tu Il problema è che C'è Un pubblico femminile Nel caso di Total Divas E Total Bellas Che ti guarda Solo quello Perché comunque Perché comunque C'è una Una fascia di pubblico femminile Che la WWE Poi non la va a guardare Però Nell'immediato Quando hanno creato Il Hanno creato I due programmi Prima Total Divas Ha portato Assolutamente Poi Sono Principalmente Quelli che hanno portato Sono rimasti a vedere Sono rimasti a vedere Prevalentemente In reality E non E non Perché di base Chi guarda Chi guarda reality Guarda reality Guarda reality Non gliene frega un cazzo Del wrestling Guardano i reality Non è detto Non è detto Che uno Che ti guarda Kipinak With Kardashian Poi ti va A ascoltare Kanye West Per fare un esempio Quello sì Per quanto Kanye West Non appare mai Nella serie Adesso Appare Adesso Che sono divorziati Appare Adesso che sono divorziati Vabbè Tanto finisce La reality show Questa stagione Quindi Diciamo che Ma oscuriranno Tutte le sue scene Che tanto erano poche Sì infatti Non appariva praticamente Ma adesso Pari ancora meno Se vogliamo Comunque A parte Per fare un esempio No no ma hai ragione Hai ragione Tanto lo sostituirai Al fidanzato della nipote Quindi Povero giocatore di basket Che gli tocca far reali Hai ragione Hai ragione Da vendere Assolutamente Tornando a noi Tornando a Dynamo di questa settimana Diciamo che Stiamo Come posso dire Stiamo in fase Di costruzione Nel senso che comunque Il pay per view Dista Due mesi Praticamente Quindi al momento Siamo in fase Di costruzione Anche delle fai Della direzione In vista Del pay per view Che ripeto Dista ben due mesi Quindi comunque C'è tutto il tempo Di questo mondo E' ancora molto fumosa Si sta Si sta lavorando Praticamente sul periodo Di costruzione E' un periodo Un pochettino Non fiacco A livello di match Perché comunque A livello qualitativo Ci sono delle cose Buone Però a livello di storie E' un periodo Di ricostruzione Se vogliamo Dopo la fine Del periodo precedente Che si è chiuso Con Revolution Sì con Revolution Che l'ultimo per view Ti mancava La stable face Che deve vendicarsi L'inner circle Quindi avevi un promo E lì già Non potevi fare altro Che il promo Hai la fai da titolata Che c'è da stabilire Come va C'è da vedere Come va Christian Cage Non a livello D'ascolti Però a livello Di cosa Li si fa fare Hai Sting Darby Allin Vediamo se vanno avanti O già iniziano Hai Team Tese Che magari Turnano qualcuno Cioè hai tutte Queste dinamiche Stanno suggerendo Molto Sting Contro Lance Archer Vediamo Se si arriva a questo O se prima Lance Archer Passa da un match Titolato Vediamo Per poi arrivare a Sting Vediamo anche come lo fanno Naturalmente No Un match titolato Te lo ribruci un'altra volta Se devi fare Sting Un altro match cinematografico Oppure Darby Allin Contro Lance Archer Con Sting E Jack Roberts Ai lati E costruisci la dinamica Vediamo Vediamo cosa Cosa si inventano Con lui Fai Sting Cerca in qualche modo Di salvare le Darby Allin Darby magari vince Si incazza Dice Non ho bisogno Del tuo aiuto Anche Puoi anche fare così Oppure perde Fai Darby Allin Sting senza titolo Che è uguale Funzione Comunque è un passaggio Di testimone Vale come un titolo Lo farei comunque Per il titolo Se c'è comunque qualcosa In paglio Alla fine Forse è sempre meglio Alla fine Comunque vediamo Preferirei non vedere Archer Perdere sempre Quello si Tra le due Tu ti risparcia col titolo Quello sicuramente Quello sicuramente Tanto il passaggio di consegne Se lo costruisci È come un titolo È comunque Sting Ed è comunque Lanciare un giovane Nella stratosfera Nel mondo dei W Va bene Ti chiedevi la settimana scorsa Cambiando un attimo L'argomento Parlando di potenziali Faide che stanno Che stanno costruendo Cosa fanno con Pentagon Qualcosa sembrano fare Con lui Sono sembrati fare Questa settimana Con Pentagon e Phoenix Contro Keny Omega Forse In arrivo un match Tra o Pentagon O Phoenix Contro Keny Omega Per il titolo Del mondo Volevo capire anche L'arredo Kid Come è messo A livello di contratto L'arredo Kid L'arredo Kid Lui è Oddio Non so come è messo A livello di A livello di contratto Penso per contratto Messico Sì Anche perché Si diceva Che l'AW Ha mandato qualcuno Là a vedere Qualche prospetto Lui è Entripla Entripla In questo In questo In questo momento Non ha Non mi pare Non mi pare Abbia contratti In questo In questo momento Con l'AW Credo che l'abbiano preso Più per Diciamo Come posso dire Per fare il 3 contro 3 Con Woodbrothers Esatto Oppure Ian Baxter Era presente Esatto L'hanno messo Buon match Anche tra l'altro Il match Che abbiamo visto Ma vabbè Quello La domanda è Dov'è Pack E Pack Credo che sia Non vorrei dirti Una fesseria Dove sia fuori In questo momento Non so se è tornato In Inghilterra Non penso Però Però è un po' Effettivamente Lui non Che non data Pack Puck Purtroppo Nei W Tra infortuni Problemi Covid No Pack Ha lottato Cos'è Lottato La settimana scorsa Mi sembra Qualcosa di Così sì Aspetta Lo so Spero Venga inserito In quella Pai da lì Perché avevano Dato idea Dei titoli di coppia Magari metti Pack E Phoenix Per i titoli di coppia E metti Pentagon Ha lottato Per l'ultima volta Nella 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 Tech Team Casino Royale A Revolution Direttamente a pay per view Poi non ha più Puoi fare quello Avranno vinto Io potrei fare quello Fai Ian Bucks e Omega Forzatamente A difendere i titoli Contro i tre messicani No Ian Bucks e Omega Ian Bucks e Omega Ah tu dici Ian Bucks e tu di Tech e Omega Ok sì Perché per quanto riguarda I Bucks Con la dinamica Che ovviamente È Omega Che gli dice Se lo difendo io Lo difendete anche voi Vero amici Che poi non è vero Perché non stanno sulle palle Però Esatto Lo split comunque Si è compiuto Questa settimana Tra Ian Bucks e Kenny Omega Adesso vediamo Come la proseguono Mi sembra che L'indicazione Sia Arrivare a Ian Bucks Contro Gallo Sanderson Per il titolo di Tech e IW Vediamo se Al pay per view Tra due mesi O prima Perché comunque C'è Comunque ripeto C'è un gap Importante Tra Diciamo Tra adesso E il pay per view Vediamo Vediamo dove Vediamo Ma puoi usare Praticamente Il trio Pack Pentagon e Phoenix Con Omega Il suo circuito interno E poi staccare Gallo Sanderson E fargli fare Il loro match Con Ian Bucks Si puoi usare Quella dinamica Che Se io do Fai Il titolo Dovete riprendere anche voi Esatto Fai Fai una difesa O due difese A Dynamite Titoli tag Titoli Titoli diciamo Titolo del mondo E E poi Comincia a costruire Sì Con quella dinamica lì Io lo difendo Ma lo difendete anche voi Tonicane è d'accordo Con un Omega Che praticamente Li vuole far leva titoli Fino a che non Gli manderà Gallo Sanderson E ci sarà Mi stare sulle palle Adesso mi date i vostri titoli Perché non siete più Miei amici Non siete nel club giusto Non siete nel gruppo Nel gruppo di ragazzi Figli Sarebbe una buona idea Cioè Io difendo il titolo A patto che lo difendano anche loro E crea quella dinamica lì Che lui gli vuole rompere proprio Rovinare la carriera Virgolette Perché comunque gli ha detto Dovete entrare nel club di figli Mi sembra che non siate d'accordo Ci ha provato fino in fondo E Bax Se ne ha detto Fai come vuoi Io tra l'altro penso Vai scusami Finisce No poi ovviamente Puoi mettere come terzi incomodi Il gruppo di pack E lì le dinamiche dei match Puoi fare quello che vuoi Puoi fare pack omega di nuovo Penta Phoenix Per transizione va bene Aspettando page Puoi farlo Aspettando diciamo La fine Aspettando pay per view Aspettando Double or nothing Tra l'altro Parlando di Parlando diciamo Di Come posso dire Di questioni Per quanto riguarda I team Abbiamo un po' di team in maretta Abbiamo detto Ci sono troppi tech team Ci sono troppi Scusami Ci sono troppe stable Però abbiamo un pochettino di maretta Un po' in In una buona parte di stable Perché adesso abbiamo L'elite Ovvero Omega Bucks E compagnie cantate Che stanno Splittando Perché comunque I Bucks Saranno bullizzati Rimarrà Quella che abbiamo ribattezzato Super Elite Cioè comunque con Omega E Omega Gallo Sanderson E Don Callis A fare Diciamo da portavoce Nel team Tezza abbiamo un pochettino di maretta Perché comunque abbiamo Cage Che Insomma Anche lui sembra abbastanza Anche lì sembra abbastanza In odore di In odore di split Praticamente Dalla stable Quindi è vero che abbiamo tanti gruppi Però è vero anche che abbiamo un po' di maretta In alcuni Diciamo in alcuni gruppi L'unico Uno dei pochi gruppi dove non sta succedendo assolutamente niente È il Dark Order Dal punto di vista Diciamo Dal punto di vista Della maretta Adesso Il Dark Order è perfettamente in equilibrio Tra l'altro è stato Molto bello Quello che hanno fatto Se sei visto L'ultimo Bindi Elite La contrapposizione Tra Tra Matt Jackson Che passa davanti Alla stanza Dove c'è il Dark Order Tutto festante Con M&Page E lui che invece A testa bassa Molto triste Che è l'esatto contrario Di quello che era successo Quando Page aveva avuto la sua crisi Quando lui era uscito Dall'Elite Era solitario Mentre l'Elite era Diciamo Al top È stata fatta apposta Come scena Però All Out è quello grosso Diciamo quello big Come pay per view Double or Nothing Tutte e due Cioè Double or Nothing e All Out Sono All Out È l'anniversario All Out è l'anniversario Diciamo di All In Double or Nothing È il primo evento Della IW Proprio come IW Quindi sono tutte Io credo che sono tutte Due Tutte e due importanti Per la Per la Per la Per la Per la Allora Da Bone or Nothing Dai Omega Un avversario Non ti dico Christian Cage Però Gli costruisci il match Con delle dinamiche All Out Secondo me Page ci sta Cioè che adesso Va tutto bene Poi metterà la marcia seria Quando vedrà che c'è Chi può salvarci Dall'abitatore di Omega Lui L'abbandonato Può essere Una buona ipotesi O puoi arrivare a full gear Volendo Puoi fare Un anno quasi Di regno titolato Di Omega Penso che No ma ci sarebbe bene È vero Hai cinque mesi Quindi vuoi Volendo anche Costruire L'ascesa Di Adam Page Al titolo Al titolo del mondo Sì Che ti cedono una mano Andrei Andrei addirittura Andrei anche Fino a novembre Francamente Cioè proprio Page deve essere L'ultima spiaggia O L'ultima spiaggia Per miracolo Riescono a tenere Cota i busci Che è proprio L'ultima spiaggia Per fermare Ken Omega E ce la fa O deve essere M&Page M&Page Bisogna vedere Cosa hanno in mente Nel senso Come posso dire Bisogna vedere Come lo gestiscono E quando si arriva Praticamente È il richiamo Cioè Page adesso Da essere bullizzato L'estromesso È il più felice Di tutto il gruppo Non l'hanno Non l'hanno bullizzato Page però A livello di Cioè non l'hanno Estromesso Svegliati Cosa vuoi fare Lui dopo un po' Ha detto Non l'hanno fatto E lui che ha avuto La crisi sua Perché continuava a perdere Alla fine In storyline Non è che gli hanno fatto Chissà cosa L'elite No Per Page Gli hanno fatto Per loro no Poi alla fine si vede Cioè la crisi La crisi di Page A livello di A livello di storyline È una crisi personale Cioè comunque Lui che Diciamo Nell'anno Scurito Per tutto quello Che gli è successo Eh esatto Si è incupito Perché il fatto Che comunque Continuava a perdere E vedeva gli altri Che avevano successo Però gli altri Non gli hanno fatto niente Cioè a livello di A livello di story No Diciamo Lo hanno messo alle corde Quando Page Per la quindicesima volta Era No non mi va bene Ma voi Non è Non mi va Sto andando male Alla fine Non l'hanno cacciato Ma gli hanno detto Senti se è così Vai E gli sei andato No 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 E gli sei andato lui Ma secondo Page Sempre ricordi Sì secondo Page Ma non è la storia Che hanno raccontato Cioè è lui Che ha avuto una crisi La storia è lui Che ha avuto una crisi Cioè è lui Che si è sentito Praticamente inadeguato E ha avuto Un momento di depressione Praticamente Se vogliamo utilizzarlo E si è sentito abbandonato E mandato alla malora Dagli altri Ma neanche Ma no È proprio lui Che voleva proprio Andarsene per i fatti suoi La fin fine Non è che si è sentito Abbandonato Proprio lui che ha detto Non voglio Non voglio Ma io credo Che avessero Credo che avessero L'idea di girarlo Il contro Conto Cagnomega Però Alla fine Hanno deciso Di cambiare Di cambiare direzione Perché secondo me Il piano era Era lui Che andava Contro il Andava da Il E proprio Abbandonava proprio Il gruppo A diventare proprio un Il Però Hanno fatto meglio Così No hanno fatto bene Perché hanno visto Hanno visto Che comunque era over lui Cioè era molto over Che il pubblico ha detto Girarlo Il è un peccato E probabilmente Suppongo io Quindi Alla fine hanno optato Per fare Qualco il tempo Omega Il Vale 60 Omega Il È fulcro della compagnia Sì la storyline La storyline Non è tanto Non è tanto Neanche L'elita Che sta bullizzando I Bucks E semplicemente Callis Che sta praticamente Facendo lavaggio del cervello Omega Cioè la storia è quella Che stanno Raccontando No ma ha usato il termine Il termine L'ha usato Omega Ma gliel'avrà detto Callis Cioè Dovete stare nel club Dei ragazzi vighi Non state lì Che poi succede qualcosa È quello che gli dice sempre Callis O state con noi O Il famoso promo Nella casa Col quadri O state con noi O verrete presi Per i fonderli Da noi Noi chi? Noi Cioè lui Lui Kenny Omega Cioè l'implicazione È Bullet Club Cioè Visto che comunque Viene anche citato Vuole intendere quello Sì sì O fate parte di Che poi non è Non è un'implicazione Viene citato apertamente Il Bullet Club Perché evidentemente Possono farlo Quindi Quindi alla fine L'implicazione è quella Cioè La storyline è quella Sostanzialmente Quindi vediamo anche Ci manca che L'invita matonga picchiate Eh ma infatti Ma infatti Non escludo che poi Possa avvenire Tra qualche mese Quando Quando si riapriranno Le frontiere Praticamente Con Con gli Stati Uniti Parlando di Maretta Parlando di Maretta Praticamente All'interno di gruppi Ci siamo dimenticati La Nightmare Family Perché anche la Nightmare Family Ha problemi Problemi interni Che stanno Stanno per deflagrare Probabilmente La prossima La prossima La prossima settimana Dai Vabbè Cutie Marshall Wow Costruito bene Ma chi se ne frega Di Cutie Marshall Allora pare che Pare che Cody Stia vedendo le cassette Lo stia prendendo Ispirazione Praticamente Per questa faida Dalla faida Tra L'Eresibisco E Bruno San Martino Negli anni 80 L'Eresibisco Era in storyline Il Diciamo L'allievo Praticamente Di Bruno San Martino Poi si andò a rivoltare Girò Il Praticamente Contro Bruno San Martino E poi fece una faida Che comunque Ebbe Ebbe grande successo Cutie Marshall Ci sono dubbi Più che altro Perché comunque Effettivamente Fino a questo momento Non c'è fatto niente Con lui In compagnia La storyline È letteralmente Che lui è L'amico di Cody Cioè viene anche Viene anche preso in giro Dal pubblico Praticamente In questo E Cody L'ho anche detto Sì Lui è il mio amico Sono contento Di averlo Di averlo qua Non sapevo Che fosse Diciamo Che fosse Diciamo così Non tanto invidioso Ma così Comunque Che vivesse così male La situazione All'interno Della Settimana prossima Avremo un match Di esibizione Con Arn Anderson Arbitro speciale Cosa che mi fa pensare Anche tra l'altro Che potrebbe esserci Il turn di Arn Nei confronti di Cody Però vediamo Vediamo cosa Vediamo cosa ci faranno Naturalmente Lui tra l'altro Ha anche detto Se devo mettere Una presa sotto missione Non la Diciamo Non la La stringo Se devo No Cos'è che ha detto Comunque ha detto Che solitamente Ha deciso di non infierire Quindi probabilmente QT farà al contrario Probabilmente Cioè QT invece Se deve fare Una mossa di rest Imponibilmente La fa anche E non molla E non molla La presa Magari infortuna Anche Cody Alla spalla Visto che comunque La storia che stai portando avanti È Cody Che ha problemi Che ha problemi Al braccio Non mi ricordo Vai Farà qualcosa Che non è QT Mamma mia Dicevo No Tornando Quando è Che partorisce Brandy Che non mi ricordo più Perché potrebbe essere Un buon modo Di metterlo fuori gioco Cioè Questa cosa qua O qualcosa È anche un modo Per fare qualcosa Con QT Marshall Almeno L'infortuna E fa qualcosa Eh esatto Almeno ci fai Ci fai qualcosa Arnelson Qualche settimana fa Nel suo podcast Aveva detto che C'è una storia Che sta arrivando Con qualcuno Che finirà Che diventerà Praticamente Il suo Il suo nuovo Il suo nuovo Protetto E questa cosa Gli cambierà la vita E la carriera Non ha detto Chi era ovviamente Però Ha suggerito Che comunque C'è questa cosa In arrivo La sensazione È che il turn Di Arnelson Su Cody Stia arrivando O comunque C'è la mia sensazione È già Da un po' di tempo Cioè comunque Che prima o poi La direzione naturale Di mettere Arnelson Con Cody E poi fare il turn Di Arnelson In suoi confronti Quindi Vediamo se È effettivamente Giunto Il momento Di questa Di questa cosa Vediamo Vediamo cosa Vediamo cosa Ci fanno Un becchio T Marshall Non mi dice assolutamente Nuno Eh lo so Il discorso Lo so E hai ragione Perché comunque Il problema L'ho detto Di QT Marshall Fino a questo momento È il fatto Che comunque Non ci hai fatto Assolutamente nulla Quindi che lui Si rivolti Cioè hai detto Che comunque Cioè l'unica storia Che hai fatto Con lui di fatto È la La sua crisi Di mezza età Con Che poi non è Di mezza età QT Marshall Però La crisi di mezza età Con Allie Esatto Che poi è ritornata A essere De Banni Con l'arrivo Di Kingston Che ha La riportata Diciamo Del suo Del suo Del suo marito The Blade Però In Diciamo In Come posso dire A parte quello Con lui Grandi cose A parte Vincere il primo Il primo Bankhouse Bankhouse match Era un match hardcore Che avevano fatto Contro Butcher and the Blade Lui Dustin Contro Butcher and the Blade Giusto? Erano due contro due Mi sembra Cosa del genere A parte quello Con lui non c'hai fatto niente Quindi È un po' strano Comunque ti lascia Un po' stretto Perché comunque Non sai come porti Nei confronti Nei confronti suoni Non sai se Se è un buon lottatore Non sai se è scarso Non sai se Non sai se diciamo Può valere un push Cioè In questo momento Non lo sai Quindi C'è un pochettino Di straniamento E ha assolutamente Ragione Ha ragione Infatti Ha ragione Gianluca Quando dice che non gliene farei niente Perché Non ha Non hai avuto il modo Di vederlo praticamente Quindi non hai Non sai A quello cui puoi andare a conto Può essere un fallimento totale Come può essere Un buon Un buon risultato Non lo scopriamo Non lo scopriamo Non lo scopriamo Non lo scopriamo Diciamo che in questo Anno e mezzo A me non dice niente A prescindere Poi magari diventa un fenomeno Con la Nanderson a campo Esatto Vediamo Al momento È impossibile dirlo Alla Codi L'ho vista L'anno scorso Cioè O me la fai Che mi interessa Almeno Lì Sean Spears Gli do atto Per quanto a me Non me ne frega niente Lì Sean Spears Almeno la sua faida Con Codi Un minimo Era stata ben costruita C'erano delle sorprese Poi il match È stato Abbastanza buono Io con Cutty Marshall Non ho nessuna Di queste sicurezze Anche perché La faida dell'amico Che lo tradisce Lo picchia Ce l'ho Vediamo ora E due addirittura Con Codi E vabbè Però Diciamo che MJF Era Lo hai fatto Per buttarlo Nella stratosfera Cioè Quello che hai costruito tu Più che altro Con MJF Con MJF L'avevi L'avevi costruita Questa Questa faida Già dall'inizio Sull'insincerità Di MJF Qua no Cioè La differenza è che Se vogliamo Qui effettivamente C'è Un cambiamento Diciamo Di 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 atteggiamento In itinere MJF sapevi dall'inizio Che gli avrebbe messo In quel posto A Codi Perché comunque Lo vedevi anche Nei segmenti Nei segmenti Che comunque Lui non era sincero Nei confronti di Codi Sapevi che Sono diversi progetti Certo Per carità Sean Spears Era stato lì Per una one E poi vediamo Sì sì Cioè Va visto MJF Lo vedevi dal primo giorno Che l'hanno firmato Aveva il potenziale Di essere quello Che costruiva l'AW Non dal nulla Però Che portava in mainstream Sì Può essere Il loro Poteva diventare Il loro Il loro Il di punta Non voglio dire Il loro Il loro triple age Perché comunque Sono due Sono due Gimmi Completamente Il loro Il di punta Il loro Il di punta Prendere per il culo E fare più o meno Le stesse cose Però è troppo forte Da Hill No è nettamente Più forte Da Hill Poi tra l'altro Il turn che gli hanno Che gli hanno fatto Ripeto Secondo me Era la marcia in più Che lui aveva bisogno Cioè lui aveva bisogno Di dimostrare Il suo lato psicotico In questo momento Con il Diciamo Con la creazione Del pinnacle Secondo me Ce l'ha fatta E adesso Può effettivamente Passare dalla terza Alla quarta A livello di A livello di marcia Per Una delle poche cose Che diceva Cornette Di cui sono sempre d'accordo È Quando va in copertina Della compagnia Vuol dire che conti NGF è nella copertina Della compagnia Cioè se fai un prospetto Assolutamente C'è lui Dei giovani C'è lui E Sting adesso Con Darby Alling Perché c'è Sting E ricordiamo Che ha 25 anni NGF Quindi ha ancora Il mondo Veramente A livello di miglioramento E a livello di tempo Cioè comunque Ha tantissimo tempo Lui quando dice Ho ancora 20 anni Di carriera davanti Non ha torto Né Il problema è stato bello Per quello Sì Perché Io ho ancora 20 anni Davanti E questa cosa Vi fa male Questa cosa Vi irrita Questa cosa Perché sapete Che non vi libererete Di me Per tanto tempo E ha ragione Oggettivamente ha ragione Perché comunque Effettivamente È stato bello È stato figo Tutto Sì Lo so che su Twitter È apparso in sottofondo Revolutionism Però Tutta la scena Però lui Che gli vuoi dire Beh È un ripoff È un ripoff Dei Foros Anche l'Evolution Era un ripoff Dei Foros Cioè comunque Alla fin fine È anche quella Ricordati che I fan I W Vanno sempre Il gruppo Di quel tipo È ovvio Che comunque Viene sempre visto Come un ripoff Dei Foros E dell'Evolution Anche nel cinema Anche nel cinema Cosa è che sta andando Adesso Un po' Per pigrizia Un po' Perché comunque Effettivamente Hai fatto tutto Il reboot Cioè alla fin fine Quello che è nuovo Scusami Quello che è vecchio È nuovo Quello che è vecchio È di nuovo Nuovo Se mi si passa Ma quello che è nuovo C'è sempre È qualcosa di vecchio A meno che non sia Ma parte Sì certo Cioè che c'è una roba Che ti fa anche schifo Però almeno Per ditti I match cinematografici Non sarà nuovissimo Però è quello che ora Poi non è fatto granché Poi voglio Parlo Quando l'avrai riempito All'osso La pentola Dei match cinematografici Tra 5 o 6 anni Lei l'ha già fatto Esatto Sta rifrenendo quello Cioè il match cinematografico Comunque il match Girato come un film Tra l'altro Se andiamo Se andiamo a vedere Il Se andiamo a vedere Tutto quanto L'ideazione La portata La portata Prima Prima gli hardies Comunque con i match Che hanno Che hanno fatto a impact Anche se erano molto più Di precursori Sì Esatto Molto più cacciaroni Poi Un'evoluzione Di quel concetto lì Alla fine Se andiamo a vedere L'ha portata Lucia Underground Perché Lucia Underground Ha evoluto Proprio quel Quel concetto lì In un concetto Artisticamente Diciamo Valido Perché comunque A livello di produzione Non tanto le stagioni successive Però La prima E in parte Anche la seconda stagione A livello di produzione A livello dei segmenti Tutto quanto Quei match lì Comunque effettivamente Li ha Li ha portati A un livello artistico Più adeguato All'inizio Tanto pare Settimana Pare Giri Voce Che vogliono rifare Lucia Underground Con un altro titolo Però Bene o male Riprendere molto Di quel concetto Credo che Credo che ci sia Sì esatto Credo che ci sia Il coinvolgimento Dell'MLW Perché comunque Continuano a citare Questa Anche il fatto Anche il fatto che Per esempio In MLW Stanno per Non so Fatou Potrebbe perdere Il titolo Contro un super Super giovane Progetto Cioè proprio Diente dal nulla Mi chiama tanto Di ok Glielo danno E poi arriva Lucia Underground E se lo fotta Il titolo Sì esatto Cioè Per perdere Fatou Che è la colonna Portante dell'MLW E no Che è campione Jekon Fatou È campione Da un anno e mezzo Più o meno Mi sembra Se lo devi levare Lo devi dare A un giovanissimo Con cui puoi costruire Tutto Una specie di MLW Contro Lucia Underground Certo Comunque Due cose Vai vai Due cose Uno La Delition del 2016 La prima stagione Lucia Underground Del 2014 Perfetto Sì Quindi Infatti Avevo il dubbio Che fosse prima Lucia Underground Rispetto agli artists C'è una notizia bruttina Sì Perché Rod Dog ha avuto Un attacco di cuore Ah Cazzo Mi spiace Mi spiace molto Speriamo che non sia Che si riprenda Naturalmente Mi spiace moltissimo Mi spiace moltissimo Mi spiace moltissimo Ovviamente Di questo Informazione A prescindere dal giudizio Noi abbiamo parlato Abbiamo parlato sempre malissimo Di Rod Dog A livello A livello lavorativo Però a livello umano A livello umano Mi spiace Naturalmente L'ha scritto La moglie su Su Facebook Sì E non so Quando Thursday Thursday night Giovedì sera Dopo che è tornato da Orlando Due giorni Due giorni fa Mi spiace Naturalmente Mi spiace C'è scritto Probabilmente Ha avuto un attacco di cuore Perché comunque Non è stato Fortunatamente Non gravissimo Però Non è Non è Diciamo Non è una bella situazione Questo è poco Ma sicuro Ovviamente Speriamo Si riprenda Si riprenda presto Comunque A prescindere dal giudizio Dal giudizio suo Come Booker Ovviamente L'uomo Ha la precedenza Su tutto Speriamo Speriamo Ovviamente Ovviamente Che Tornando al discorso Eidabio Che ha fatto il suo match Cinematografico Particolare Perché Più curato Però comunque Si è detto La filosofia È l'unica cosa Antrancian Che hai fatto Di nuovo Dal resto Un po' alla fine Tutto un ripoff O rimandi Che dite Anche il super match Al core femminile Giustamente È stato citato Ho visto Varie conversazioni I fan I mark Ci sono delle compagnie Che lo fanno Da 15 anni Questa cosa qui Quindi che Purtroppo È sempre Il suo discorso Quando si leggono Le cose Bisogna Esserti curi Sì certo Poi specialmente 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 In un mondo Come quello del wrestling Dove comunque Hai le grandi compagnie Mainstream Però è anche Tantissime compagnie indie È probabile Che comunque Qualcosa Che Sparci per una Grande innovazione Si è stato già fatto Nelle compagnie Nelle compagnie Più piccole Però è normale Che comunque Essendo una cosa piccola Abbia meno risalto Rispetto a quando viene fatto Ma la dinamica Stingale Cioè quante volte L'hai vista Sì ma Per carità È un ragazzo Che dall'AiW È praticamente nato Perché prima era Un indie wrestler Ma proprio indie indie Che comunque Fra qualche mese Avrà il match Con una leggenda Ma di gran calibro Perché sting Sting Infatti Ma è normale È il classico discorso Christian Cage È il discorso Diciamo Dell'allievo Che poi andrà Contro il maestro È normalissimo È una dinamica Non si entra neanche Niente col wrestling È una dinamica vecchia Come il mondo Cioè la fin fine A livello anche Ma poi devi costruire Un altro top giovane Che hai lanciato tu E ci sta a fare Questa cosa È perfetto Si è detto sempre Se gli avesse Sting Con una leggenda Ma per dirti Anche il Christian Cage Che ora dice Ok voglio fare Far vedere a tutti Che io Super performo E supero gli altri Quando gli daranno Un giovane Tipo Jungle Boy L'intento è sempre quello Adesso gli daranno Gente che Con lui Può fare Dei buoni match Tipo che Caserian mi sembra Sì O Daniels Settimana prossima C'è Caserian Settimana prossima C'è Caserian Ma puoi fare Tutti e due Tanto Cioè Christian Cage L'hai firmato Deve starci Dagli subito Degli avversari Dei vecchietti Poi si dice Perché ci sono Sì Se devi arrivare Al match Tra Christian e Omega Con Christian Che perde Contro Omega Qualche vittoria Devi dargliela Bisogna vedere Con chi gliele Dai Non questo Pay per view Ma quello Dopo No puoi anche Dargli in due mesi Cioè comunque Hai il tempo Eventualmente Per fare un discorso Di questo tipo Sì puoi anche Arrivare Magari andare Un pochettino Più con calma Andare fino All'out Effettivamente Puoi anche Fare Secondo me Già va bene Per l'estate Per l'out Per tirare Page Puoi l'estate Cage va bene Puoi l'agenda Che ci prova O se riescono A farlo Fighter Fest Se quest'anno Si riesce a fare Se no Te lo tieni Però l'out Un evento Fuori dal Jacksonville Se possono Per quanto Come si è detto Prima Si dirà In altri segmenti I Diegene Che spostino tanto Cristiano Omega Se non devi giocare Giocatelo così Si ci prova Vediamo Giustamente Ormai Ormai L'hai preso Ormai L'hai preso Tanto male Che potrebbe Farci qualcosa L'hai firmato Vuole fare match Vuole essere attivo E dagli Esatto Ormai L'hai firmato Ormai L'hai firmato Hai fatto 30 Fai 31 Ma lo devi costruire Perché hai sempre detto Che contano Quali vittorie Almeno farlo vincere No infatti 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 Devi costruire Devi ottenere qualche vittoria Certo Tornando a noi Tornando a Dynamite Di questa Di questa settimana Darby Allin Ha battuto John Silver Per conservare Tito TNT Buon match Buon main event Purtroppo Silver si è fatto male Fortunatamente Non è un infortunio Gravissimo È una roba Ha detto Da 4-6 settimane Perché si è slogato Si è slogato la spalla Praticamente Durante il match Fortunatamente Ha detto Che non dovrà essere Non dovrà essere operato Quindi è una cosa Di qualche Di qualche Di qualche settimana Vediamo Il fatto Il fatto che abbia finito Il match Con una spalla slogata Tanto di cappello A lui Perché comunque Immagino che possa Essere È stato Alquanto doloroso Diciamo Però no Buon match Buona conferma Da parte di Darby Allin Però buonissima prova Anche di John Silver Che comunque si Si conferma Ottimi livelli All'interno All'interno Della Della Un anno e due Saranno nella copertina Della compagnia Ci sta Esatto Bilanciare Però ci vorrà del tempo Oh L'infortuna Magari darà tempo Reynolds Vedremo un po' Di Reynolds In queste settimane Perché comunque Oh È il duo Ho sempre parlato Di uno Secondo me Sarebbe bello Vedere qualche match Di Reynolds Con Peuge Solo Reynolds Giusto per vederlo Nel frattempo Nel frattempo Continua anche Diciamo La La costruzione Di Scorpio Sky Come il Che abbiamo visto Nell'ultima settimana Continuiamo a vedere Dei piccoli Diciamo Dei piccoli Dei piccoli promo Da parte sua Dove dice Questo non è un nuovo 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 Lato della mia Personità È solo un lato Che non avete mai visto Praticamente Adesso Vediamo cosa ci fanno Con lui come il È vero che ha perso Il match Il match con Darby Allin Però la cosa non è finita Probabilmente Tra Tra lui E Tra lui e Darby Allin Contando anche Come Scusa Lo puoi mettere Mettere questo Invece che usare Archer Magari per non sprecartelo Ci puoi mettere Scorpio Sky Parlando di Parlando di Sorprese Diciamo di questa Di questa puntata Non tanto a livello Qualitativo del match Anche se è stato comunque Un match Che si è lasciato Tranquillamente guardare La sconfitta di Nyla Rose Sconfitta di Nyla Rose Contro Ty Conchi Che ha battuto Nyla Rose Praticamente Praticamente pulita Abbastanza sorpresa Come risultato Non pensavo vincesse Ty Conchi Evidentemente Dimostrano che Su di lei Effettivamente in questo momento Un pochettino Un pochettino Ci ha provato Non è andata granchetta E Conti Non l'ha ancora provato Secondo me ci sta Cioè Ty Conti Comunque la devi provare Se loro ritengono Ci puoi andare Vai Giusto così Tanto Nyla Rose È la midcard Della divisione femminile Adesso va bene Può vincere qualche match Come può perdere Ty Conti È arrivata ieri Sotto tanti dubbi Gli va dato atto Al momento È buona Partiva da una sufficienza Adesso gli fa buoni match Peraltro lo appuntano Abbastanza Un'altra che stanno Un'altra che stanno Che proveranno Probabilmente a costruire È The Bunny Perché comunque The Bunny Come peraltro Giustamente ricordato Da Da Matardi Alla fine Dopo Dopo la rissa Che è scattata Con Iker Ushida The Bunny Nyla Rose Vicky Guerrero E Ty Conti Ha detto The Bunny Non c'era Praticamente Nel torneo Quindi Adesso Visto che comunque Sono Il suo cliente Anche lui Della stable Di Matardi Insieme ai private party Insieme a Butcher And the Blade Adesso è il momento Comunque di vedere Di vedere anche The Bunny In azione Sarà in azione Adana Ma ci vediamo la prossima Vai La divisione femminile Le Dappi Lo ha fatto con tutte Cioè Quello La filosofia ci sta Non ha vinto Questa filosofia Di provarle tutte Non ne azzecchi una Però è giusto così C'è Allie C'è Ty Conti Si continua Perché comunque O A forza di dire Come diceva Spalletti A forza di dire Che piove piove Poi piove Cioè A forza di provare Magari Ty Conti Ti viene Un personaggio Una lottatrice Che gli puoi dare il titolo Alla divisione O Di nuovo Allie Devi far così Comunque tanto Finché non è le giapponesi fisse La divisione Deve essere a tentativi Tanto Non può andare oltre l'altra No Al di là Dei tentativi Comunque Alla fin fine In qualche modo Devi costruire delle persone Quindi Se non ci provi Alla fin fine Devi provarci Esatto Ovviamente fallirai Ovviamente fallirai Sotto questi punti di vista Però Hai comunque una divisione O comunque un roster In generale Perché non è un discorso Solo di divisione È un discorso di roster anche Che in gran parte È composto da sconosciuti Praticamente Al grande pubblico Devi comunque introdurli In qualche modo Se no Non andranno mai over No ma scusa Io ho sempre Quella Diciamo quella barra Se a Bigs Wall Gli hai dato Tutto quella roba lì Non è andata over Per me può andarci Jade Red Velvet Jade Guarda che Jade ci puntano tanto Quindi Ti ripeto La barra è Se io ho visto Bigs Wall Andare top per tre mesi Lo può fare chiunque Quella divisione Perché comunque Se sono buon progetti Anche lei la usce Se la prepari fra sei o sette mesi O anche fra due o tre Bigs Wall avevi Bigs Wall avevi Bigs Wall avevi anche Bigs Wall ha avuto anche la buona storia Comunque oggettivamente La storia con lei e Britt Baker Era buona L'ha gestita L'ha gestita molto molto bene Poi purtroppo Purtroppo Anche perché Britt Baker L'ha dimostrato Senza fare commenti E come Jade Cioè vedi il talento Jade è molto acerbo Però lo vedi Questa si impara Con lei Con lei Secondo me Hanno fatto un ottimo lavoro Questa settimana Perché comunque Dopo il match Della settimana scorsa C'era il rischio Che Che Britt Baker Passasse un po' Da babyface Cioè comunque Che comunque Dopo la grande Prima è stato perfetto È stato perfetto Perché comunque Lei è rimasta I Dopo il culo Che mi sono fatto Tima scorsa Questo è il ringraziamento Cioè questo è l'accoglienza Che riportate A una come me Andate a quel paese Anche la battuta Anche la battuta di folle Ci sta Perché comunque Ti vuol dire Ok me ne accorgete ora Che sono 20 volte più forte di lui L'avete visto Io una notte ho fatto come lui Ci sta da il Credersi superiore Perché doveva rimanere il Cioè l'idea era Lasciarlo Lasciarla il Perché comunque Dopo Settimana scorsa C'era il rischio Effettivamente che Passasse da babyface Che comunque La buttata Che potevi buttarla Praticamente su Ah cazzo Questa è forte davvero Tifiamola anche se non è ill E facciamo diventare babyface Invece no L'idea era Tenerla Tenerla da ill Perché comunque È quello il suo ruolo Dove rende meglio Ed è quello che serve Perché l'hai già avuta da buona Anche perché se devi mandarla Se devi mandarla No esatto Ma se poi se devi mandarla Contro la scida Per il titolo Ha senso che comunque Ci vada da ill Non ci può andare da babyface Logicamente Poi Purtroppo tra infortuni E covid Lei è Come si dice Il suo title reign Magari è in ritardo Di un po' Ma era prima Prima che si facesse male Pure covid Lo avevamo capito Questa appena girata Io l'hanno detto Ma il potenziale è altissimo La gimmick Con Tony Schavone Tutto quello che ha fatto Si vede che ci puntano Su di lei E fanno bene Ma da che promo Ti tira fuori Esatto Settimana prossima Dynamite Stavo guardando Cosa abbiamo saltato A livello di A livello di match Sì Kenny Omega ha fatto Un ottimo match Tra l'altro con Matt Sidon L'abbiamo sottolineato abbastanza È stato l'opener Della puntata Non avrà poco carisma Ma Sadie Suring è bravo Non c'è neanche da discurso Sì sì Assolutamente Assolutamente sì E basta Non mi pare di avere altro Da segnalare Per quanto riguarda La puntata di questa Hanno filmato Red Velvet Ufficialmente Sì ma È un po' È un po' Come Leila Hirsch Leila Hirsch aveva detto Che l'avevano firmata a ottobre Solo che hanno aspettato Tanto per Per annunciarla Qui probabilmente Anche qui Perché comunque Non la metti nel match Con Shaquille O'Neal E Non ci puoi No ma No ma non è quello il discorso Che non ci punti Non la dai quella ribalta Se non è firmata È quello il discorso Cioè Anche se l'hanno annunciato giovedì Non l'hanno firmata mercoledì L'hanno firmata molto prima Però Prima di Shaq Prima del match di Shaq Eh sì ma anche molto prima Però probabilmente Settimana prossima Avremo Miro e Kip Sabian Contro Chuck Taylor E Orange Cassidy In quello che hanno chiamato Arcade Anarchy Che sarà un match Con Con tutti i cabinati Praticamente Cabinati da videogioco Intorno al ring Dove potranno Lanciarsi e schiantarsi Contro Praticamente Per tutto il contesto Un match un po' Un po' particolare Se vogliamo utilizzare Un eufemismo Mi lascia un po' perplesso Francamente come gimmick Per E sono generoso nel dire Mi lascia un po' perplesso Vediamo cosa succede Comunque Tornando a Miro Mi sa che Lo split Con Kip Sabian Non è tanto lontano Perché comunque Continuano Continuano a suggerire Che Kip Sabian Vuole la vendetta Dei confronto Di Jack Taylor Non so se abbiamo Un collegamento Possiamo provare A vedere Un collegamento Non lo sto più guardando Dynamite Mi ha rotto il gatto Ah beh no Dimenticavo che Michael È ormai in fase di festeggiamenti Da tre giorni Da quando Da quando Hanno annunciato L'unica cosa che importa È che Galì Sia Nella Nella All of Fame E tutto il resto Che cazzo Me ne frega Va bene Stiamo vedendo Tratto anche i festeggiamenti Di Galì Esatto Stiamo vedendo Tratto i festeggiamenti I festeggiamenti di Galì Su Instagram Non so per cosa Credo che sia La festa La festa delle unità Diciamo Di Nuova Delia Qualcosa Qualcosa di simile Vediamo Scusa Al nostro mango Avrà un altro momento A resta in media Perché comunque A Gavin Poi lo divideremo A SmackDown Gli daranno Un suo momento Resta in media Alla faccia di tutti Vediamo Comunque tornando Tornando a noi Tornando diciamo Tornando a A quello che ci aspetta Mercoledì A Dynamite Ecco qua I carosciti Tyconci contro Naila Rose E The Bunny Kenny Omega E i Good Brothers Contro il Lucia Bross E la Redo Kid L'esibizione Con arbitro speciale Arnenderson Cody Rose E QT Marshall E Christian Cage Contro Frankie Contro Frankie Caserian E questo è quanto Per quanto riguarda Dynamite Di questa Di questa settimana Parlando di Darby Allin Un altro con cui Stanno costruendo qualcosa Al di là di Alley Lensarce Con Sting Ma è Matardi Matardi contro Contro Darby Allin Basandoci su quello Che è successo Praticamente A fine puntata No Gianluca In uno special Puoi fare anche quello Cioè con Darby Allin In quel titolo Puoi fare tutto Quello che vuoi Vediamo Vediamo un pochettino Cosa ci aspetta Praticamente Nelle prossime settimane Ripeto Il pay per view Dista due mesi Quindi c'è tempo Per costruire tutto E siamo Diciamo In quella fase Probabilmente A livello di A livello di A livello di Siamo nella fase In cui Si sta creando Qualcosa In vista In vista Dei prossimi appuntamenti In pay per view Per quanto riguarda Per quanto riguarda La EIW Ultima interruzione Publicitaria Per questa puntata Di Resting Cafè Tra poco si parla Di Smackdown E di Resting Mania Non andate via Quando Cioè Chiedo scusa Mi sono incartato Dove invece Non c'è Non c'è Non c'è spazio A livello di tempo E dove non c'è Non c'è molto spazio Per Creare roba Per un pay per view Che è accaduto due mesi E la WWE Perché Resting Mania È tra dieci giorni Quindi Libertà Comunque abbiamo le carte Praticamente fatte No le carte sono praticamente fatte Infatti Per quanto riguarda Per quanto riguarda La Resting Mania Mancano Mancano Seamus Riddle Sì L'ufficializzazione Del 4-way Di coppia Di Smackdown All 4-way All 4-way O direttamente Mysterio Visto che comunque Ieri sera Hanno Hanno puntato molto Su quella roba lì Però è anche vero Che hai anche altre tecniche È un po' Un peccato Gebole Otis Li hanno battuti Mysterio Sì Vero 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 che questo Quindi Cioè Nel senso Se tu vai a vedere Tutti gli incastri Che hanno fatto Gli unici Struzzi Allora Mi sembra Allora Gli Street Profits Hanno battuto I Dirty Dogs Se non sbaglio Mi sembra Sì Se non lo ricordo I Mysterio Hanno perso Contro Gebole Otis Stasettimana Gebole Otis Hanno battuto Ancora Gli Street Profits A quel punto Ci sta Fai il Fatal 4-way Sì Fai il Fatal 4-way Probabilmente Magari Ci butti dentro Le scale O i tavoli Eh sì Fai Sì Fai un TLC Qualcosa di Ma un Multiman Lo fai Che poi vabbè Anche se annunci Il ladder match Alla fin fine I tavoli li veri comunque Quindi alla fin fine Cambia un cazzo Annunciare TLC Ma lo puoi fare anche Fai il Fatal 4-way normale Alla fin È giusto perché Così Comunque Eh lo so Però Fai il Fatal 4-way normale Diciamo Come posso dire Non mi viene la parola Fai il Fatal 4-way normale Le scale Puoi utilizzarle Ma non devi andare sulle scale Per vincere il match Con quello invece Con le scale Ma sai Poi a livello tecnico Hai tanta gente brava lì Che salterina Cioè Quello è un match Dove hai Sei Sì Sei lottatori Che possono divertire Anche senza scale Ma alla fine Gli unici due Ottis che comunque È migliorato E Dominic che comunque Deve Bisogna vederlo In contesto Caciarone Però tutti gli altri Io mi fido Anche lo stesso Ziggler È di Amazing Robert Hood Se gli dai Se gli dai Anche due match Dove saltano Va bene Di Street Non ne parliamo È Mysterio Il capostipide È Gable Dai di gente che salta Vedrai che cosa ti fa Più che altro Solita domanda Chi fai vincere Alla fine Chi fai vincere In questo In questo match Però è una domanda Sinceramente Possono vincere chiunque Io lo darei Mysterio Per dare finalmente A Dominic Anch'io ti direi Anch'io che andrei Gli darei Il resta Il media moment Praticamente Anche perché Gli Street Profits Non hanno bisogno Di un altro Regno titolato Adesso No Hanno avuto Il suo momento Piuttosto fai L'idea è Mysterio E poi vai avanti Con Gable e Otis Oppure l'idea è Gable e Otis E poi i giri La fai da quei Mysterio Cioè fai anche Andrei Andrei più sui Mysterio Cioè gli darei Il resta Il media moment Francamente A Ray Non solo a Dominic Ma anche a Ray Cioè è vero che Ray L'ha già avuto Il suo resta Il suo resta Il media moment Vincendo Però vince il titolo col figlio Eh esatto Con chi ha vinto Il titolo di Coppia Re Bravo Bravo E la vendi lì La vendi lì L'ha vinta con lui La vince col figlio Arresta il media L'ha vinta col figlio Dell'altro Cioè lui l'ha vinto Cioè sarebbe Moment of Arresta il media Uno dei migliori Cioè lui che comunque Ha vinto con l'amico Il fratello dell'amico E col figlio E col figlio dell'amico Sì Con il figliastro Diciamo In questo caso No scherzi a parte Col figlio dell'amico Col figlio dell'amico Esatto Vuole intendere Quel famoso test Ok You got me Eddie Per citare Per citare L'attitude era podcast Tornando Tornando a noi Tornando a Tipo Ma comunque C'è un match che possono vincere chiunque Anche se di vincere Tipo Cioè Anche Robert True Anche dei fantastic Robert True De Ziegler Solo che non conterebbero nulla Comunque Cioè alla fine devi darlo a qualcuno Per cui fare qualcosa Tornando Conoscendo Smegno Tornando a Restlemania Come Parliamo anche di Smackdown Che ci siamo lasciati Lasciamo lasciati alle spalle Non è stata una brutta puntata di Smackdown No è stata una bella puntata L'unica cosa L'unica cosa è stato il match Tra Bianca Belair e Natalia Che l'ho trovato orribile Sì Ma lì C'è lo scotto da pagare Perché devi far vedere Bianca Belair forte Hai bisogno di Sasha Che ormai ha girato completamente Ile No ma al di là di questo Proprio il match in sé Non mi è piaciuto per niente C'è stato C'è stato C'è stato un bel boccione All'interno Non so se l'hai notato Quello sul Diciamo sul Quando Quando Bianca Belair Ha fatto la manovra in handspring Che doveva atterrare Con Moonsault Su Natalia Natalia se è spostata L'ha preso ugualmente Quindi lì Non è stato Non una bella scena Non è stato Un bel match Non è stato un bel match Sì è stato un buon match Comunque Dobbiamo farlo No non è Non è stato un bel match Quello è il punto Non è stato un bel match È stato un brutto match Ah scusa Ho detto Non è stato bello E mi sono fatto Diciamo La bot mi ha fregato Mi ha fatto credere Che era bello Vai È stato un brutto match Il problema è Divisione femminile Purtroppo Ho tolte loro Le due per il titolo Che sono veramente A livello di personaggi Una più antipatia Dell'altra E Bayley Ci tocca lavorare Con la bot Perché io poi Dopo la bot C'è No vai con i Secondo me Recuperi I progetti I progetti La Liv Morgan La sicurezza Ruby Riott Cioè a quel punto Chiami qualcuno Da Roma E ti Bayley Però io voglio capire Il match Per ditti È uno di quelli Di Restalmania Che non hanno cambiato Uno dei pochi Che è rimasto così Da quando hanno deciso Arnarumbo Ma sono insopportabili Come personaggi Le due Perno meno Sasha Ray La face è stata Una roba Cioè io ti favo Reginald A un certo punto Ora Reginald E picchia Finalmente Vindiamo a vincere Reginald Cioè Vediamo Non so neanche se vince Non so neanche se vince Bianca il primo match Proprio perché Ne parlavano oggi pomeriggio Poi sono d'accordo Con Mattia E gli altri Che ne parlavano in chat Non è che Bianca C'è anche queste cose Poi te le guardano È un boccio grosso Non è colpa sua Però Sasha Non ha mai avuto Restemania moment Bianca tutto Subito Restemania moment Eh Sasha effettivamente Non ha mai avuto Restemania moment Peraltro è il match femminile Più grosso di quest'anno Io che perde Non sono sicuro Poi magari all'entrata Lo capiremo dalla faccia Però Sei ancora Sei ancora Diciamo dell'idea Che Sasha adesso Ti dia Ti dia il risultato Con l'espressione facciale Non lo fa più da un po' Ha smesso di farlo Affortunatamente No ha smesso Ha smesso Era una battuta Però Ripeto Sasha restemania moment Non ha mai avuto Cioè Dar tutto Bianca subito Sarei contentissimo Solo meriterebbe Né che sta faida Mi sta proprio piacendo Per colpa delle due Ma per i personaggi Poi l'attato Non neanche discutiamo Sì non stanno Oggettivamente Credo che siamo Probabilmente d'accordo Io e Mattia La faida Oggettivamente Non è il massimo Non è il massimo Della vita Diciamo Dal punto di vista Qualitativo Mi ha fatto Molto molto ridere Che Kyla È andata Da Da cosa Da Da Bianca E gli ha detto Scusa Bianca Ma perché Invece che guardare Sasha ti sei messa A rullare al logo Di Wrestlemania Che mi ha fatto Molto ridere Beh Ieri sera Abbiamo avuto Il ritorno Di un grande Diciamo Di un grande Di un grande Troppo Della WWE Ovvero Il Wrestle Distratto Dalla musica Altrui Che è una cosa Che è sempre È sempre Diciamo Come posso dire Sempre È sempre notevole Quando succede È sempre una cosa Che non ha Che non ha Moltissimo senso Dopotutto distratto Proprio nel momento In cui l'avversario Ne approfitta E vince O lo butta giù Dettagli 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 Non che lasco Magari C'è dal ring E gli va in contro No Proprio lì Che ha pesce lì Sarebbe Un bel ritorno Sì Riviviamo tra l'altro Il grande momento Di domenica Al pay per view È una sfida Mi stai sfidando E non si riesce A starti dietro Stai dieci anni avanti Sì Accetto la sfida Questo è Troppo Di di accamare È per essere Il media Quarantasette Questa qua Vista Esatto Sì Esattamente Bianca Bellair Contro l'insegna E magari vince l'insegna Esatto Esattamente Telefono Ricordatevi Che c'è un frigorifero Che non ha il titolo WWE Un'insegna può vincere Tornando a noi Tornando a noi Allora Come è ampiamente previsto Il main event Di Restemania È cambiato Roman Reigns Contro La rosicata La rosicata La rosicata di Daniel Bryan All'inizio Che anche quella Non è stata Proprio il massimo Della vita Non so Che nessuno ha fatto notare Una cosa Vai Che è Cioè nessuno Ha fatto notare Ad Edge Che è un cretino Perché se Non si fosse Immischiato nel match A questora avrebbe Un avversario Mentre lui Si è immischiato Nel match Sì sarebbe L'avversario sarebbe Daniel Bryan Però Io credo Cioè la storia Però la storia Che stanno Cioè la storia Che non stanno Raccontando Secondo me Che dovrebbero E che dovrebbero Raccontare E il fatto che Ha già paura di Bryan È quello che Quello che Che non Che non stanno Raccontando O meglio Magari è un sottotono Che non viene Che non viene Praticamente Che per ora Non vogliono Non vogliono Di cui non stanno Ancora parlando Magari la settimana Prossima Però Che Roman Abbia paura di Bryan Lo sappiamo È Edge Che non si capisce Però Nel senso Quando Pierce Ha fatto tipo Tutte le cose lì Ha fatto tutta L'analisi Della situazione Secondo me Doveva dire A un certo punto Ad Edge Edge Ma sei tu Che sai interferire Se tu non Interferivi nel match Sì A questora Avremmo avuto Comunque un finale Pulito O comunque Un finale Dove uno di due Avrebbe vinto E quindi Tu avresti Il match singolo È colpa tua Di questa situazione È colpa di Edge Sì Sarebbe servito Soprattutto quando dice Io ho vinto la Rumble Tu hai perso due volte Cosa ci stai a fare Dovevi fare quella cosa lì Che hai detto ora prima Cioè lui che gli dice Senti ma Se avessi fatto tutto così Non c'è problema Comunque È ufficialmente È ufficialmente La storyline È assolutamente La stessa Uguale Identica E non è un male Intendiamoci Però fa ridere Il ricorso storico Fa ridere Vai A me A me A me Sinceramente Ha alzato di più L'interesse Per Come si dice Per il match Nel senso che Edge contro Roman Sì mi interessa Perché c'è Roman dentro E comunque i match di Roman Sono sempre belli Nell'ultimo periodo Però non mi diceva nulla Con le prestazioni Che ha fatto Brian Nell'ultimo mese E anche nell'ultimo anno Perché nell'ultimo anno Brian ha fatto Dei grandi match Secondo me Questo ha il potenziale Di diventare un match Ancora più bello Se non un match ottimo Sì Se prima poteva essere Un buon match Adesso ho aspettative Per un ottimo match Per quello che vedremo Vediamo Vediamo cosa Cosa succede Però sì Di base Di base a livello A livello qualitativo A livello qualitativo Effettivamente Il miglioramento È possibile Che sia È possibile Sì io non posso Cambiare la filosofia Perché non voglio Fare marcia indietro Miglior match possibile Chiamata di Vince Ragazzi Brian migliora tutto Non i sei o sette stelle Ma l'interesse Hai visto già Preso Mattia Mettere solo Brian Magari prima Se lasciavi così Altra gente Avrebbe detto Ok È un match di Edge Non è che mi tira tanto Dopo un mese e mezzo Chiamata di Vince Ci sta Poi comunque c'è Le dinamiche Puoi fare di tutto Puoi fare che vince Roman Perché Brian viene steso da Edge Lo schiena Puoi fare che Edge vince di rapina Perché Brian riesce a mettere sotto K A Roma E il dopo poi Dopo puoi fare Titolato o non titolato Edge-Brian Oppure Roma col titolo E fai avanti Crei due fight E poi puoi fare entrare gli altri La domanda adesso ovviamente Cosa fai a Restylvania Cioè chi vince a Restylvania Naturalmente Il Triple D Uno tra Edge e Roma Uno tra Edge e Roma No Edge non vince secondo me Brian questa volta Non ha speranze Sostanzialmente Secondo me non vince Brian Allora Mi piacerebbe Mi piacerebbe vincesse Brian Sì Secondo me mantiene Roman E poi faranno la fight Tra Edge e Brian Con Edge Che si lamenta Che Brian gli è costato il suo Che gli è costato Il suo riavere Il titolo Puoi fare tre finali Puoi fare anche Che Edge non vince Dalla colpa a Brian A Roma non vince Puoi fare Quattro Che è quello che ho appena detto Sì ma puoi fare tutto Puoi fare Edge che vince rubando Ma Brian l'ha steso Roman Puoi fare Puoi fare tutto il resto Puoi fare Che praticamente Roma non vince A più senso Che dare il titolo A Edge Però è anche vero Che se devi Se giri Edge Hill Se giri Edge Hill E lo fai Diciamo Lo riporti praticamente Alla Alla sua gimmick Dell'ultimate opportunis La rete d'art superstar Eccetera 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 Ha senso che lui Effettivamente possa anche Vincere il titolo Magari Approfittando Di una situazione E ha senso Che ha un avversario Poi come Brian subito Che è la sua antitesi perfetta L'ultimate opportunis Contro uno che si è fatto Il culo Però ti faccio una domanda Cosa puoi fare a Roma Esatto Il problema è Roman Reigns Cioè il problema è Cosa fa con Roma Alla fine Cioè il suo personaggio Senza il titolo Va capito Col titolo O metti Cesaro O trovi qualcos'altro Edge Brian Cesaro Permettere Cesaro Vuol dire che Cesaro Batte Rollins E ho i miei dubbi Che accada Tu dice che finalmente Si sono convinti A dargli un push on Secondo me si Speriamo Spero che tu abbia ragione Roman devi pensarci Se vince Roman Devi pensarci Perché comunque qualcosa Roman l'ha fatto fare Edge e Brian Cono senza titolo Qua chi se ne prega Cioè è una faida perfetta Sono uno l'antitesi dell'altro Sono due personaggi Che dipende Da se veramente dicono Ok per Roman Non c'è Cesaro Vai Secondo me Ha molto più senso Che la mantenga Roman E poi Edge Si incazzi ancora di più Con Brian Perché Brian È quello che gli è costato Il diventare Di nuovo campione Dopo dieci anni Nel senso Se tu vai a leggere La storia Se tu vai a leggere La storia In questo momento Edge Ha un avversario Edge era convinto Di poter battere Roman In questo momento Ha un avversario in più Che può essere Può fregargli Può fregargli La vittoria E che l'ha battuto Alla fine Ricordiamo la sottomissione E che ha battuto Roman Ma ha anche un avversario Ha anche una persona Che può E può essere schienato Da Roman Senza che lui venga schienato Quindi Secondo me A livello di idea Se vuoi far ancora andare Più Edge Per non dargli il titolo Perché io non darei Il titolo ad Edge Puoi benissimo Far mantenere Roman E puoi girare E sviluppare La faida con Brian E Edge Senza Senza il titolo Con la questione Del Ti sei Ti sei voluto inserire A forza Nel mio match Che io mi sono guadagnato E mi sei costato La vittoria Poi Che Edge E poi Secondo me Stanno sbagliando Anche a non sottolineare Che il pirla Della situazione Non è Brian Che ha cercato Di sfruttare La sua opportunità Ma Edge Che gliel'ha tolta Perché comunque Una cosa Su cui ieri Dovevano calcare Molto di più la mano E non hanno fatto È dire che Questo triple threat È colpa di Edge Perché non si è fatto I cazzi suoi Perché ha voluto Inserirsi nel match Perché ha perso lui Le staffe Sì Sono d'accordo Soprattutto ripeto L'unica cosa Che non mi è piaciuta È quella lì Cioè Edge Ha fatto la frase Lui Ha detto Lui Cioè È vero che si è preso Una sediata da Brian Involontaria Si è preso Una sediata Involontaria Però Il fatto che lui Abbia perso la pazienza Andando a colpirlo Poi con la sedia È lui che ha fatto finire È lui che Ha fatto in modo Che Brian non vincesse E che ha costruito Tutta questa situazione Del manga Quindi È colpa sua Che siamo arrivati In questa situazione Di base A livello logico Ma ci sta Il problema è Ripeto A me l'unica cosa Che non è piaciuta È quello Che Edge dice La frase Quasi da face Io ho vinto la Rumble Te che hai fatto Che hai perso due volte Non citare prima Cioè Non far dire a Pirs Quello che hai detto Tu adesso Ciccio O neanche Brian Che dica Sì ma Sei tu che mi hai colpito Sei tu che poi Hai causato la mia sconfitta Sei tu che ti sei inserito In un match Dove non dovevi essere Potevi fare anche Dira a Brian È vero Io non conto nulla Tu hai vinto la Rumble Però chi è quello Che ha creato il Triple Threat E gliela facevi girare Cioè Brian Che giustamente dice Ok Io non ho vinto nulla Non sono qui a far nulla Gli facevi dire Però sto lottando e tutto Ma alla fine Io sono qui per colpa tua Sei tu che mi vuoi qua L'hai voluto tu E Pirs Col Triple Threat Diceva Colpa tua Edge Mi tocca dare a Triple Threat È l'unico modo E allora poi Il cazzatore Super Spear di Edge Ci sta Fargli dire Io ho vinto la Rumble Tu hai perso due volte E stai zitto Senza far dire Senza far passare No Fai passare sotto traccia Quello che si è detto ora Cioè Edge faceva i suoi compitini Il match rimaneva due E invece Ha perso le staff Però ripeto Puoi fare Alla fine Dipende tutto Se c'è un dopo Roman Se c'è un dopo Roman Edge e Brian Con tutta tranquillità Se su Roman Non hanno chiara idea Di cosa fargli fare dopo Non penso Non sia una brutta idea Di dare a Edge il titolo Però se con Roman Ci hanno già pronto Cesaro Fa un culo Fai vincere Roman E si fa Roman Cesaro E andiamo avanti Però il problema è Cesaro batte Rollins Spero Però è sempre Seth Rollins È un po' come Sasha Bianca Sarebbe bello Però è Seth Rollins Però per Seth Rollins Cosa gli fai fare dopo? Eh Quale 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 Che cosa Che cosa Quale Qual è la Fai il super Fai il superstar shake up Lo rimandi a Rollins Fai il superstar shake up Perché poi dici Cesaro Qual è l'utilità Di far vincere a Rollins Quel match Perché poi tu dici Io do a Cesaro Money in the bank Questo match Che chissene A meno che A meno che non sia Inserire Cesaro Nel Money in the bank Dopo che ha appena Perso con Rollins Mi sembra una cagata Beh Hai tempo però Anche un mese e mezzo Eventualmente Poi alla fine Hai un mese e mezzo L'hanno anche fatto Tante volte Cioè se per loro È più importante Dare il Money in the bank C'è Cesaro Posso anche Io sto nell'idea Che Cesaro Con Money in the bank Sia un'ottima idea Però vediamo Cosa Anch'io Sì Sì È tutto a concatenazione Alla fine Cioè se tu tieni Roma nel titolo Qualcosa deve fare Dei face a SmackDown Come poteva essere Brian alla Rumble Che poi il problema Al fulcro Dei problemi Dei mini eventi Resti mani È che Brian Contro Roman Farlo dalla Rumble Un po' E non sarebbe stato Un problema Per cosa stavi costruendo A SmackDown Adesso l'ha inserito Perché giustamente Ha detto bene Vince E io sono stato il primo A dirlo Devi fare il miglior match possibile Vince ha detto Sentite Questo tira giusto Se mettiamo Brian Abbiamo più possibilità Tira meglio il match E la gente Che dice Edge Vabbè Dice Beh però c'è Brian C'è il ricorso storico Sette anni E comunque Daniel Brian Era assicuro Lo tifano È già cambiato il mood Prima il mood Era vabbè Edge nel mini event Cioè devi prendere Il più possibile Ci sta Alla fine Se il concept È dare a Roma Il miglior match Quale miglior match Di uno Fatto sette anni fa Con le stesse dinamiche Ma con Roma Reigns Edge Al posto di Batista E Orton Alla fine Stavo guardando Non c'è molto Da aggiungere Relativamente Alla SmackDown Ieri sera No C'è solo il VIP C'è solo il VIP Sì A sorpresa Owen Zain Che si affronteranno Arrested Mania Bene o male L'avevamo capito La settimana scorsa Però adesso c'è L'inserimento di Logan Paul Che non è una brutta idea Settimana prossima Vedremo il trailer Io non vedo l'ora Di vedere il trailer Perché ho la sensazione Che questo documentario Possa veramente venire In modo assurdo Se Logan l'hanno preso Pagandolo tanti soldi Di capire Quante cose Puoi fare con Zain Perché solo con Zain Può fare delle cose È l'unico personaggio Pazzo Con cui puoi mettere Logan Paul Perché un che Zain Ricordiamolo C'è la staffa C'è la mania Non lo vedete il complotto? Ma non lo vedete Che non mi state aiutando? Sono sotto Tutto per colpa vostra Con Owen Che gli fa Senti amico Bevi meno Che proprio Sei fuori di tutto Ci sta Ma c'è la stettina Poi Logan Paul Porta Qualche acquisto Te lo porta In un card di SmackDown Metterci un VIP È un buon palcoscenico Considerando che È comunque un match Nato Praticamente da poco Per dirti come SmackDown Fa un buon lavoro Comunque Trato ricordiamo È anche un match Che è sempre vero Ricordiamo Ricordiamo Tra l'altro Se ci metti Quella dinamica lì Non l'ho mai vista Una dinamica Del personaggio famoso Tra Owens e Zain Comunque È una dinamica nuova Ma non è quella La cosa interessante Non è quella Del personaggio famoso La cosa interessante È che gli hai rinvertiti Di ruoli Perché quando hanno fatto Quando hanno fatto Sting contro Generico È sempre stato Sting Owens L'Hill della situazione Mentre a sto giro È Zain È già La cosa più interessante È quella Non è che ci hai messo Dentro Logan Paul Per noi Per i fan No a livello di match Sì Attirà semplicemente Il mainstream Certo Eh lo so Però comunque Alla fine Oggettivamente Bisogna riconoscere Che comunque Atterrerà di più Una figura come Come Logan Paul Ma non è quello Però la dinamica Interessante nuova Di questo match È lo scambio Il cambio di attitudine È che è il cambio Di allineamento Dei due Tra l'altro Aggiungiamo Aggiungiamo anche Che nel frattempo Tra l'altro Non so se Se Logan Paul Coinvolgerà Anche il fratello Perché il fratello Ha un match In pay per view Il 17 aprile Contro Ben Askren A 50 dollari Tra l'altro Quindi Non so se Lo coinvolgeranno In una carta Di BMIH Avranno anche Frank Mir Contro Antonio Tarver Per esempio A livello di Di nomi Abbastanza È una caccia Che puoi fare Ovviamente Il fratello Ti chiede Due milioni Dipende Allora I soldi Saranno i copi Impugilato Qualcuno ha detto Un altro Bad Bunny Questo è Bad Bunny per tre Perché comunque Lo porta Basta vedere Cosa ha fatto Con la box Quando ha fatto I suoi pay per view La famiglia Paul E questi Li porta Sì Esatto È comunque Inserito In una dinamica Che già per noi Fan di wrestling È nuova Però butti dentro lui Nel mainstream C'è Temi Zane E Kevin Owens Come contorno Che comunque Non è una figata Per un casual C'è Logan Paul E vedi questi due bravi Che lottano Che sanno fare Occhi chiusi Quello che vuoi Cioè non lo metti Col match femminile Sarà Sarà un evento Molto particolare In pay per view Perché ci sarà Jake Paul Contro Ben Asken Regis Progress Contro Ivan Redkak Antonio Tarder Contro Frank Mir Joe Fournier Contro Raycon Soprattutto Avremo Performance di Justin Bieber I Black Keys Major Lazer Doge H E D-Blo Quindi comunque Nomi Non di secondo piano Anzi Tutt'altro È un'opportunità Che non ti capita più La volta Questo con Jake Paul La volta scorsa Al commento C'era Snoop Dogg Questa volta Ci sarà Pete Davidson Di Saturday Night Live Quindi È una promotion Abbastanza particolare Thriller Fight A livello di A livello di eventi Perché comunque Crea un'atmosfera Molto particolare La scorsa volta La scorsa volta Che hanno sono andato In pay per view Era il match Tra Tyson e Ron Jones Che ha fatto un milione Di acquisti Questa volta Vediamo Perché con Con il pollo Comunque il seguito C'è Quindi vediamo Cosa Vediamo cosa ci fanno Sì ma puoi fare Cross promotion Comunque ripeto Lo metti Dentro La cornice Di due ottimi Lottatori Che per i fan Di wrestling È come si dice È il dolce Bellino È il dolce Che chiedi sempre È vero che l'avevi preso 20 volte Però è anche cambiato Il dolce È cambiato la grassa Perché è tutto La dinamica Cioè non lo metti Con il match tag femminile Che non ce ne frega niente Già che lo fanno Vincere Reginald Sì ma vince Reginald Per me deve vincere Reginald E portare le cinture Ma perché deve vincere Reginald Non sarà neanche nel match Ma come fa a vincere Reginald Che è da solo Non è vero che è da solo È con Naya Sì ma non può vincerlo lui Il match Non è nel match Non può vincerlo lui Il match Guardate che se chiedete a Naya Con chi lo vuoi vincere A un certo punto Vi risponderà Ma Reginald Non è male Ma non può Ma non è una donna Non può andare Nei titoli femminili Non può Non è Spero che la WWE Non sia la TNA Che fa vincere il titolo Di coppia femminile Ma no ma è una battuta Perderanno E faranno lo split Però il fatto che Naya Coccoli questo Reginald E Shayna poverina Che non ce la fa più Le scenette Sono bellissime Però L'unica speranza È levare Shayna da lì E metterla di nuovo In divisione femminile Seria Perché il personaggio A tutto Sì ma non puntano su Shayna È quello il problema Vabbè ma Naya Gli fai fare le scenette Con Reginald È come puntarci Piuttosto che vedere Shayna che fa le facce Che è bellissimo Però Poi le vie a Naya A quello purtroppo Da rimandi su Cioè Ci tocca rivederla Con Patrick Per il titolo Le match importanti Ma è quello che succederà Cioè Non è che Naya È per quello che sperava Il Reginald Almeno Stava lì E fa il suo Ma la fai da con Reginald Finirà Quando Lei Lui Lei vorrà trombarselo E lui gli dirà Scusa Non mi piacciono le donne Morte No vabbè Morte per snu snu E Lui Avrà No secondo me Secondo me la buttano sul Non mi piacciono le donne Io preferisco Cioè Tanto Ma perché devo buttarla su Lui che è gay Vabbè comunque Per forza Poi tra l'altro Vabbè comunque la buttano È comedy Che conosco Vince Sì vabbè Comunque la buttano Ragazzi è comedy Non Cioè Lo so che l'hanno battuto La mia collega Allora bisogna riconoscere Bisogna riconoscere Bisogna riconoscere Una cosa Le storyline omofobiche Da un po' di tempo A questa parte Si quelle vero Non le fanno più Si sono arrestate Anche perché Non è il caso Contando anche Che gli stanno togliendo I segmenti da Peacock Non so quanto Possa essere una buona Una buona idea Ma non lo fanno No infatti Non è omofobica È la cosa Semplicemente Sì Lo sai che non lo tratterebbero Non la tratterebbero seriamente Se fanno una cosa di questo tipo Quindi Di base Diventerebbe una buffonata E trattare uno Che A cui piacciono gli uomini Come una buffonata Tanto la dinamica Del match Di coppio femminile Che andrà nel pre-show È quella lì Cioè questa è distratta Sto qua E Shayna Sveglia E fai vincere Le altre due E fai sto split Che saranno Probabilmente Nei uomini Nei uomini E carmella Non è l'ana Sì Nei uomini E l'ana Sì Ecco fatti Vabbè Ti ripeto Buttandoci dentro Reginal Possono fare Quello che vogliono Il problema Tanto è pre-show Tanto finisce presto Cambio di titolo Non ti dico Telefonato Però Prima o poi Lo perdono Perché c'è questo qua Che naia Guarda solo lui E Shayna Che è la cosa più bella La scena che deve fare Sveglia C'è il match Poi gli stanno vincendo Però è evidente Che perdono titoli Tornando Stiamo arrivando Tornando a noi L'altra cosa di ieri sera Beh l'abbiamo detto Rey Mysterio Ha battuto Ha battuto Dol Ziggler Nel match 1 contro 1 E poi il segmento finale Dove C'è stata mega rissa Dove è già chiuso Guardando molto Molto attentamente La telecamera In stile In stile rete d'arte Sì esatto La sua spear bella Stavolta una spear Di potenza Eh Gliel'hanno Gliel'hanno vendute bene Gliel'hanno vendute bene Gli altri Hanno fatto un ottimo lavoro Oggettivamente Tornando Tornando Diciamo Alla card Di Restelmania Di Restelmania 37 Abbiamo Bene o male Scusatemi Abbiamo bene o male La suddivisione Dei match Per quanto riguarda Le due serate I due titoli del mondo Come Come ampiamente Prevedibile Previsto Si divideranno Uno per serata Il main event Main event Sarà il triple threat Tra Edge Roman Reigns E Daniel Bryan Che sarà il main event La seconda serata Nella prima serata Avremo Come main event Il match Tra Bobby Lash E Drew McIntyre Per il titolo Da BWI Con Ricordiamo Sedica Alexander Scelto Benjamin Banditi da Bordoring In seguito Alla stipulazione In seguito Alla match Di lunedì sera Tra Sedica Alexander Scelto Chi erano McIntyre Contro Alexander Benjamin Era un handicap match Giusto? Si Si Poi Nella prima serata Sasha Banks Contro Bianca Belair Bad Bunny Contro Demizza Che per ora Un match singolo Pare che sia Perché Morrison E Damien Priest Hanno dei leggeri infortuni Se Rientrano in tempo Il match Potrebbe ancora Diventare Fare un tag team match Se non rimane Un match singolo E Devin Priest E John Morrison Farne qualcosa Puramente da Bordoring New Day Contro AJ Styles E Omos Per i titoli Di coppia Di Raw Cambio di titolo Probabilmente Però Vediamo che succede Braun Strowman Contro Shane McMahon Per ora Un match singolo Però ricordiamo Che in storyline Shane ha detto Che avrebbe accettato Qualunque tipo di stipulazione Quindi diventerà Penso un no sbarro Qualcosa Qualcosa simile Il tutto per far saltare Il tutto per far saltare Shane alla barca Ricordiamolo Vai Ha tweetato Ha tweetato poco fa Una roba tipo In two weeks time It's brains Verso Baba Braun Ah questo è Shane Però che l'ha Che l'ha tweetato Non Non Strowman E infine Cesaro contro Seth Rollins Annunciato Ieri sera Per la Durante SmackDown Per la prima serata Del Baby Review Diciamo che Ripeto La prima serata Main event a parte Sì Sasha Bianca Belair Però a livello qualitativo E beh anche Cesaro Rollins Sì a parte la prima A parte la La seconda serata Secondo me è meglio A livello qualitativo La serata è una bomba La seconda serata abbiamo Seconda serata A parte un match Nella seconda serata abbiamo Camino Camino Contro Semi Zane Per il In un match singolo Poi abbiamo No vabbè la prima notte Anche Cesaro contro Rollins Eh infatti ci stavo arrivando Seconda serata La seconda serata è Camino Contro Semi Zane Big E contro Polo Cruz Per il titolo intercontinentale Speriamo migliore Dell'ultimo confronto Anche perché non ci vuole molto Sì ma penso che lo sarà Poi The Fiend Contro Randy Orton Questo non ho grande fiducia Vabbè E la tassa da pagare Poi avremo Asuka Contro Ria Ripley E questo dovrebbe essere Molto bello E poi almeno La voce che se recuperano Ricoprano Charlotte Buttano dentro anche Charlotte No speriamo di no Era la voce che ci riuscola Ancora Charlotte Che fa il terzo incomodo Per la seconda volta Non di fila però Vabbè Vediamo Beh c'è anche Daniel Bryan Che fa ancora il terzo incomodo Allora se vuoi fare il terzo incomodo Butta la Smackdown Così almeno Andiamo in vacca Completamente la storyline Così almeno fai la Fai Fai il trio Delle Il trio delle simpaticone Esatto Fai un simpatia match Ah e basta Questo è quanto Per quanto riguarda la card di Restalmania Ne parleremo poi ancora in dettaglio Nelle prossime due puntate Settimana prossima Eh abbiamo due settimane Praticamente Settimana prossima faremo anche una buona preview Di Takeover Perché comunque poi andremo Andremo online A quattro giorni Tra l'altro Tra l'altro io ti direi Che facciamo la puntata Il caffè Lo facciamo Venerdì sera Prima di Restalmania Sì sì esatto E chi se ne frega Se non analizziamo Smackdown Tanto guarda Tanto guarda Tanto pare che se ne ha registrato Eh sì Smackdown è registrato Quindi magari sapremo anche qualcosa prima Relativamente alle ultime cose Ma non penso che La card Non penso che la card Magari fanno Magari quello Smackdown Contando che è registrato Sì esatto Magari fanno Fanno tipo tutti i recapponi Esatto esattamente Noi lo registriamo venerdì sera Lo mettiamo subito online E poi Sabato siamo tranquilli Praticamente Siamo pronti poi per Per Restalmania Possiamo anche farlo in diretta Per i Patreon Il venerdì sera Vediamo Sì è una buona pensata Anche quella Effettivamente Purtroppo non ho visto Il pay per me Da Ringo Bono Che mi ha detto Che è stato molto bello Lo guarderò poi Nei prossimi giorni C'è una sorta di crossover Perché hanno debuttato Hanno debuttato Tony Deppin E È ritornato anche Homicide C'è una crossover Con la GCW Quindi Non è solo Non è solo La EW La New Japan In parte Compagnie Cantate Che stanno collaborando C'è anche questa C'è anche questa Diciamo questa Questa situazione Tra l'altro La notizia Che è uscita Sull'Observer Un paio di giorni fa Che Zelina Vega Tia Trinidad Abbia firmato Con una compagnia Che cosa Che le impedisce Di andare in EW Mi fa pensare Che abbia effettivamente Firmato con Ring of Honor E arriverà Con Con Andrade Andrade Con la Sombra Perché Penso che vogliano Penso che vogliano Praticamente riunire Andrade Cioè la Sombra Con Rush Bestia del Ring Kenny King Con Per unirvi Alla Alla Passione Ingovernable Questo Credo che sia Credo che sia Praticamente La direzione Che stanno La direzione Che stanno Che stanno Che stanno Prendendo Alla Fin fine Sono arrivati Tony Depp E Chris Dickinson Anche arrivato Ecco dimenticavo Anche Chris Dickinson È arrivato Anche lui Dalla GCW Quindi C'è questo Diciamo questo crossover Con Con la Game Changer Wrestling Vediamo cosa Vediamo cosa Nesce Almeno per il momento Ripeto Si stanno Prendo alcune porte Nelle varie Nelle varie compagnie Non c'è solo La famosa Porta proibita Che è stata citata Più volte Tra i W E New Japan Anche Se adesso la GCW Comincia a collaborare Anche con Con altre compagnie Con la Ringo Bono Per esempio Il Panorama Wrestling E comunque Già un pochettino Più variegato Abbastanza interessante Ripeto Non ho visto il pay per view Mi hanno detto Che è stato un ottimo pay per view Lo devo guardare Ce l'ho su Honor Club Appena ho Un tre ore di tempo Lo vado Andrò a vederlo E giudicherò Giudicherò con mano Altre cose a segnalare Nella settimana La Hall of Fame WWE Ha tre nuovi membri Che sono Cioè due annunciate ufficialmente Uno penso che verrà annunciato La settimana prossima Che sono Kane Congratulazioni a Kane Assolutamente Assolutamente meritato Molto bello anche il momento In cui Gli lo diciamo Tec che glielo comunica Esatto A The Bump Dalla macchina Esatto Mi ha fatto molto ridere Che io dice Mentre lui è in macchina Sì esatto Mi ha fatto molto ridere The Great Khali Vabbè Vabbè Ormai Cioè Se la Hall of Fame WWE Deve contenere i più grandi Mi dispiace Anche se ti chiami The Great Khali Great non lo sei Con tutto il rispetto C'è gente anche peggiore C'è gente che comunque Potrebbe essere Sì c'è anche molto migliore C'è anche molto migliore C'è con tutto Dipende alla fine Dipende alla fine Il concetto di Hall of Fame Nello sport Il concetto di Hall of Fame È quella che contiene i più grandi Alla fine Con tutto il rispetto Khali Ne ha tipo 150 Davanti Prima di entrare In un discorso di questo tipo Però vabbè Però vabbè Sì sappiamo che La WWE Non è quello Cioè la WWE Ormai è una È una roba in cui Entrano veramente Cani e porci Alla fin fine Quindi Pazienza Buon momento Buon momento per lui C'è un buon momento per lui A livello personale Ma finisce lì Credo il discorso E il prossimo sarà Rob Van Damme Rob Van Damme Già oggettivamente Molto più meritato Rispetto Sarà interessate Vedere se si porti Puttano Secondo me no Secondo me non si porta Dietro i due I due mignotoni Che si portava Con tutto il rispetto Che non c'è Che sono le sue fidanzate Tra l'altro Eh beh sì Sono le sue due fidanzate Chiamiamole così Diciamo Eh dicevo Le ha portate a Impa Dubito fortemente Che le porti Che se le porti dietro Conciate nel modo In cui si erano Conciate a Impa Comunque no Rob Van Damme Invece è decisamente Più meritato Anche solo per un discorso Di innovazione Di impatto A livello A livello di wrestling Cioè comunque Tanti dopo di lui Hanno copiato Rob Van Damme Come tanti Come tanti Ha copiato Sabu Oggettivamente anche Sabu Un altro che meriterebbe L'ingresso In una Hall of Fame Nel wrestling Perché comunque Per l'impatto E per comunque Per l'influenza Che ha avuto Su tanti altri Tanti altri lottatori E altre cose importanti A memoria Non me ne vengono in mente Non so se avete qualcosa Da aggiungere Ma non mi pare Quindi direi Che possiamo chiudere Questa puntata Del caffè Grazie Gianluca Rouge Ricordate sempre E lei Nai Sì Che ha già perso Il secondo me Jobber No dai Jobber no Jobber Anche su Grazie a Mattia di noi Grazie a voi Ci sentiamo Settimana prossima Sentiamo Una penultima puntata Però resta Esatto Ci sentiamo Martedì Praticamente Con il post show Di Con il post show Praticamente Di Raw Alle ore 22 Per chi ci ascolta Di lunedì Quest'oggi E per i nostri abbonati Anche Patron E Youtube A livello main event Oggi andrà online La puntata Di Ressica Fai Back in a Day Che abbiamo registrato Nella giornata di venerdì Dedicata alle Film Song Vi anticipiamo Che abbiamo messo Alla prova La conoscenza musicale Di Film Song Di Mattia di noi E di Maxi Zoson Che mi hanno fatto Compagnia In cronaca Come lo scoprirete Durante il podcast Ricordiamo Potete abbonarvi Sia su Patreon Che su Youtube Al costo di 6 dollari Per ottenere Questo E altri benefici Altri podcast esclusivi Che noi Facciamo per i nostri abbonati E per i nostri Per i nostri patron Con Ressica Fai Con Ressica Fai Invece torniamo Nella serata nottata Tra sabato e domenica Per i nostri abbonati E tra domenica e domenica Per tutti gli altri Per la puntata Pre Takeover Stand and Deliver Per quanto riguarda NXT È tutto Grazie per averci ascoltato State al sicuro Buona settimana Ciao Ciao